Ok, ci siamo benvenuti, ben ritrovati a questo terzo e ultimo appuntamento del ciclo Rilancio Bagnoli. Credo che sia tutto in linea, datemi un check in chat. Rilancio Bagnoli, un ciclo di tre appuntamenti promossi appunto da Invitalia e dal Commissario Stratteneo di Governo per risanamento, chiaramente come sapete, dell'area, risanamento ambientale e regionale urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. L'obiettivo di questi incontri è stato, e sarà con l'incontro di oggi, approfondire i contenuti del progetto vincitore che è un corso internazionale di idee Bagnoli Urban Nature e raccogliere, quindi come sapete, anche spunti e stimoli da parte appunto degli stakeholder che fanno parte dell'area per una completa e condivisa valorizzazione del nuovo volto di Bagnoli. Oggi, come sapete, sarà possibile anche analizzare il progetto Bagnolis e la nuova stagione Felix su tre temi specifici. Quindi oggi concludiamo con l'ultimo tema, soprattutto legati questi temi a tutti i collettivi, alle modalità di fruizione dell'area e ai nuovi modelli di gestione. Il tema dell'incontro di oggi è edifici esistenti e nuove costruzioni. All'interno di questo tema, che toccheremo a fondo, ci saranno diverse riflessioni, quindi dedicate all'integrazione tra il nuovo edificato, localizzato ai margini del parco urbano, gli edifici di archeologia industriale e la città esistente, e anche alla definizione di possibili usi delle volumetrie nuove e soggette al recupero. Quindi diciamo, oggi edifici esistenti e nuove costruzioni è in particolare tre sottotemi, che sono gli usi del nuovo edificato, quindi in relazione alla città esistente, il borgo Coroglio e le sue relazioni con il mare e i nuovi usi delle archeologie industriali. Dopodiché, chiaramente, per approfondire tutto ciò, è chiaro che avremo, come al solito, diversi relatori che vi anticipo, che poco a poco si intervallaranno e potranno approfondire appunto questi temi. In particolare abbiamo Davide Del Cogliano, responsabile area sviluppo progetto Ipagnoli, che interverrà subito e tra poco appunto per inquadrare un po' chiaramente tutto il progetto, il responsabile unico del procedimento Gila Leoni, che è già intervenuto dall'architetto Gila Leoni di Invitalia, e poi interverranno il raggruppamento dei progettisti che hanno vinto questa gara, quindi del contest, come sapete, Urban Nature, che spiegheranno il progetto e in particolare, anche in questo caso, avremo i progettisti dello studio Bargone, quindi l'architetto Federico Bargone e l'architetto pasaggista Enrico Auletta, l'architetto presso Neo Studio Architetta Associata di Riccardo Miselli, il consulente del gruppo vincitore del concorso Stefania Toro, l'architetto urbanista presso lo studio Negro Architecture Francesco Nigro e anche l'agronomo, come abbiamo già incontrato le volte scorse, Luciano Mauro. A seguito dei progettisti poi ci sarà un ricco e nutrito Q&A, quindi ci sarà una importante fase in cui voi potrete esprimere le vostre domande e sollevare dei temi che verranno appunto discussi in questo appuntamento. Come è già avvenuto nelle altre due dizioni, vorremmo ricordare l'importanza del vostro contributo, soprattutto in questa fase, in questa fase che permette di comprendere meglio quali possono essere appunto gli stimoli provenienti degli stakeholder e ci sono due modalità per poter partecipare. Chiaramente partecipando a questa sessione è importante partecipare per fare delle domande, però ricordiamo che dal 15 al 30 giugno, quindi rimangono ancora più o meno 8 giorni, potete contribuire inserendo il vostro contributo diretto all'interno dell'area dedicata del sito che è bagnolicontest.invitalia.it, potete trovarlo anche all'interno appunto di qualsiasi motore di ricerca cercando bagnolicontest e ci sarà un'area dedicata quindi dove potrete inviare il vostro contributo. Oltretutto, come vi ho visto anche in altre edizioni, potrebbe anche esserci l'opportunità di mandare delle mail per rispondere a dei temi che magari hanno bisogno di un approfondimento maggiore rispetto a quelli che possiamo sollevare qui in questa sessione. Detto ciò, a questo punto non ci resta che invitare il primo dei relatori appunto della scaletta di oggi e quindi invitiamo qui su questo palco digitale il dottor Davide Del Cogliano, responsabile area sviluppo del progetto Bagnoli. Benvenuto Davide Buongiorno Buongiorno a tutti Grazie Beh, oggi siamo al terzo incontro che è sicuramente, come dire, tra l'altro è l'ultimo è un incontro importante perché si parla degli edifici e di quello che diventerà Bagnoli sostanzialmente dopo tutte queste operazioni che verranno realizzate nell'area per renderla da quello che è stata per lungo periodo dopo la dismissione della fabbrica e quindi una sorta di landa desolata finalmente quello che si vede nelle immagini che i nostri progettisti hanno ipotizzato. Diciamo che aprirò questa sessione aiutandomi con poche slide di quelle che ormai credo che il pubblico conoscerà anche perché vedo che il pubblico è assiduo, appassionato, nel senso che molti di coloro i quali hanno assistito alle precedenti puntate continuano e quindi hanno apprezzato questo tipo di approccio e quindi eviterò di raccontarvi le cose che ormai già conoscete abbastanza. In ogni caso provo a mandare esattamente le slide in condivisione. Eccoci. Perfetto. Credo che si vedano. Ok, queste sono slide che ormai conoscete, credo a menadito. Sapete tutti che ormai che nell'area si sta stabilizzando quello che è previsto come investimento in circa 2 miliardi di euro dei quali c'è già una buona quota assegnata che sono i 440. Questo a beneficio di chi non ha ascoltato il mio collega Claudio Collinvitti nelle due puntate precedenti. Può essere utile ripeterlo. Nell'area è prevista ovviamente una bonifica consistente della gran parte di essa, circa 200 ettari, un grandissimo parco di cui oggi parleremo e l'edificato che invece è l'oggetto specifico della puntata di oggi che vale circa 1 milione e 600 metri cubi. La volumetria di nuovo edificato è di questo 1 milione e 6 circa 1 milione quindi c'è molta conservazione in particolare, come sapete, degli edifici storici sui quali magari poi facciamo un piccolo approfondimento. C'è una riqualificazione importante che è quella del Borgo Coroglio e diciamo un'operazione complessa della quale bisogna mettere in sincronia una serie di cose e anche lì magari avremo modo di approfondire se ci sono domande specifiche. Nell'area è prevista un'attrazione di circa 9 milioni di visitatori all'anno che rispetto a quello che accade oggi ovviamente stravolge abbastanza anche l'assetto infrastrutturale. Vado molto rapidamente, questa slide la conoscete, il progetto è molto complesso e addirittura, anzi il programma, si struttura in 12 progetti questo lo avete già visto per chi c'era con il mio collega buona parte dei progetti sono quelli di bonifica, naturalmente a terra e a mare poi c'è tutta la parte di infrastrutturazione e in generale la messa in sicurezza dell'area. Volevo farvi vedere però un approccio che forse è interessante che è quello di quanti progetti alla fine si stanno realizzando nell'area in questo momento e cioè quello che accadrà fino al primo semestre 22. Come vedete in rosso, quei pallini che prima erano le iconcine delle varie attività che si andranno a fare nell'area sono di fatto in rosso tutte quelle nelle quali sono disponibili progetti cantierabili o già cantierati e in rosso e verde vedete la cui progettazione è stata realizzata internamente da Invitali e come vedete c'è uno sforzo notivolissimo che Invitali ha fatto in questa fase nella progettazione delle bonifiche che ovviamente era richiesto data la delicatezza dell'operazione da fare. Qui vedete invece in verde tutte le aree nelle quali saranno in corso o avviati o saranno avviati lavori entro aprile 2022. Come vedete praticamente le aree a terra saranno toccate da lavori per la gran parte. Un po' dopo il primo semestre si apriranno anche i cantieri delle infrastrutture e del parco che quindi sono in quest'area centrale. Dunque nei prossimi 18 mesi, posso dire 12-18 mesi a Bagnoli si vedrà un fermento di attività che in parte si sta già avviando in questi mesi. Tra un po' parte sapete la bonifica delle aree nelle quali vengono edificati gli edifici e anche quella è una bonifica molto consistente, vale circa 70 milioni. Due parole invece sul tema di oggi. Oggi sostanzialmente parleremo di rapporto tra edifici esistenti e quelli nuovi. Gli edifici esistenti sapete che sono costituiti da due grandi blocchi. Sono quelli di archeologia industriale, quindi sono proprio alcuni edifici della vecchia fabbrica che la sovrintendenza e noi con il Comune abbiamo deciso in qualche modo di preservare destinandoli a svariati utilizzi. Anzi, sarà importante, questo lo sottolineo, un vostro contributo, il contributo di chi oggi ci sta ascoltando rispetto alla possibilità di utilizzare questi edifici di archeologia industriale. Parlo di alcuni, ovviamente altri hanno già una destinazione molto ben chiara. Penso alla ciaieria dove, date le dimensioni, lì bisogna pensare a uno sviluppo anche che sia sostenibile economicamente, ma alcuni edifici che hanno una difficile destinazione commerciale probabilmente possono essere adatti ad utilizzi più sociali, più legati al territorio, più in qualche modo legati alle associazioni del territorio per farci attività che vadano a beneficio del quartiere. E lì, ovviamente, contiamo molto sulle vostre proposte. L'altro gruppo di edifici esistenti sono quelli che ci ha lasciato in edilità Bagnoli Futura che sono sostanzialmente tre grandi attrezzature che chi è, diciamo, in qualche modo stato sull'area in questi ultimi anni conosce, ma probabilmente anche chi ha visto le ultime presentazioni ha imparato a conoscere. Cioè parliamo di quello che si chiama l'ex-tartal point, ospedale delle tartarughe, ormai avviato a essere rigenerato per diventare una cosiddetta marine farm, cioè uno stabilimento per la riproduzione di organismi marini destinati all'industria cosmetica e farmaceutica. I lavori partiranno entro l'anno a cura dell'Anton Dorn, che l'ha presa in gestione, e entro il 2022 si avvieranno già le prime attività di ricerca e di didattica su questo tema. Poi c'è la porta del parco, che è quell'edificio nuovo che è verso via Diogreziano, che di fatto costruisce la porta di accesso al parco, che in questo momento è in fase di ripensamento quanto a funzioni, sempre nell'ambito di quelle che sono state attribuite dal Comune e dalla Regione quando è stato progettato, ma abbiamo ricevuto una proposta sulla quale stiamo facendo le valutazioni che la Regione ci richiede di rifare per poter poi mettere a gara questa proposta e verificare se il mercato la recepisce o se il proponente, in quel caso, avendone il diritto di prelazione, realizzi quello che si pensa di fare, che è un grande centro fitness unito a un centro informativo con corsi di formazione su recitazione, regia, eccetera. Terzo, parco dello sport, anche lì stiamo lavorando per assegnarlo ad un ente che possa in qualche modo gestirlo e farlo diventare quello per cui era nato, cioè un centro sportivo per il quartiere. Chiudo dicendo che la vera sfida a questo punto sarà quella di rendere compatibile, poi l'oggetto della conversazione di oggi, rendere compatibili questi edifici storici, parlo dell'archeologia, con quelli creati da Bagnoli Futura che sono delle attrezzature, con tutta la nuova edificazione sulla quale abbiamo fatto un forte ripensamento anche con Regione Comune, dove abbiamo assegnato, pre-assegnato, delle funzioni d'uso che ci hanno consentito di definire quale può essere l'attrattività dell'area con quelle funzioni. Su queste ci sono ovviamente aperte tutta una serie di opzioni, proposte, che anche con i progettisti stiamo in qualche modo valutando. La vera sfida però a questo punto, avendo a disposizione le forme che sono state date dal concorso, è di fatto quella di garantire la sostenibilità sotto tutti i profili. Questa è un'area che, diciamo, da un punto di vista ambientale, ha bisogno che vengano realizzati edifici che abbiano appunto una sostenibilità ambientale tenuto conto dei rischi ambientali a cui è soggetta e quindi gli edifici dovranno in qualche modo seguire le regole per garantire quella sostenibilità, così come c'è bisogno di garantire la sostenibilità economica per evitare di fare un insediamento che dopo due anni salta e diventa un'altra volta una landa desolata. Per far questo noi pensiamo, contiamo di operare, cercando nelle gare che faremo per attribuire queste, diciamo, le volumetrie da edificare, il gestore insieme al finanziatore. Quindi in modo da avere la certezza che chi costruisca abbia già chiaro qual è il modello gestionale da adottare, evitando che si costruisca prima di trovare il gestore. Devo dire questo, ahimè, è stato fatto in passato e oggi ci troviamo, come vedete, ad attribuire oggetti pensati da qualcuno ma senza avere già a disposizione chi invece era interessato a gestire. Quindi è un grosso guaio, come vedete, che oggi stiamo affrontando per Turtle Point, Porta del Parco e Parco dello Sport. Grazie, forse sono andato qualche minuto oltre. Chiedo Venia. Grazie, grazie mille Davide Del Cogliano per questa introduzione. A questo punto, come ti consiglio, passiamo la palla in questo palco digitale all'architetto Giulia Leoni, che ci dà invece l'inquadramento generale del contest Urban Nature, su cui si sono poi misurati i progettisti che hanno vinto. Giulia? Sì, eccomi. Ecco, ben ritrovata. Aspettate. Eccoci. Sì. Allora, ne abbiamo già parlato le altre volte. La procedura del concorso di idee è stata una procedura abbastanza complessa, iniziata a settembre 2019. È stata si divisa in due fasi. La prima fase prevedeva la presentazione di un dossier da parte dei candidati che è stato valutato da una commissione interna di Invitalia. Ne sono stati scelti a questo punto 20 concorrenti che avevano il compito di presentare la propria idea progettuale. Siamo stati costretti anche a, diciamo, incrementare, ad fare un differimento di termini di partecipazione perché sulla piattaforma erano abbastanza presenti chiarimenti soprattutto per quanto riguardava la partecipazione di soggetti stranieri e quindi siamo stati anche molto soddisfatti del risultato. Per quanto riguarda la scelta delle 20 idee progettuali a questo punto si è insediata una commissione di concorso sia con soggetti interni da Invitalia sia con soggetti disegnati dal Comune e dalla Regione che hanno valutato le proposte in maniera anonima. Le proposte presentate sui 20 invitati sono state 18 di cui un'offerta però è stata esclusa. Quindi 17 sono state le offerte valutate e il 12 maggio c'è stata la proclamazione del vincitore. A questo punto il compito del vincitore è quello di redigere un planivolumetrico che costituirà parte integrante delle norme tecniche di attuazione e che ci permetterà di completare con i parametri urbanistici e il dettaglio dell'attuazione degli interventi il documento che è stato approvato nel 2019 e che quest'anno verrà completato e approvato in maniera complessiva. L'area di intervento comprendeva non solo il subambito interno in cui ricadeva il SIN ma inquadrava anche un ambito più esteso affinché il progetto riuscisse a fare una proposta omogenea collegandosi anche con la città esistente e con il mare e l'isola di Nisida valorizzando al massimo gli edifici del vecchio impianto siderurgico e anche una valorizzazione naturale e pausaggistica dell'intera area. La proposta che noi richiedevamo di presentare oltre ad avere un costo massimo di realizzazione del parco pari a 80 milioni di euro richiedeva un'attenzione particolare anche alla sostenibilità ambientale, economica e sociale della proposta cercando proprio di inquadrare al meglio quali erano le linee guida che oltre le norme tecniche il Praru stesso indicava. I tre vincitori, i primi tre in graduatoria sono stati quindi l'RTP Costituendo Studio Bargoni Associati Architetti Associati il secondo classificato Main Management Ingegneria e il terzo classificato Francesco Cellini. Questa è l'idea vincitrice che oggi valuteremo nel dettaglio anche perché l'approfondimento di oggi relativo proprio al vecchio, al nuovo edificato ci permetterà di comprendere al meglio quale sarà la struttura nuova e che ci permetterà di completare le norme tecniche di attuazione. Siamo bene così adesso aspettiamo tutto quello che ci racconta il vincitore. Esatto, grazie mille Archietto Giulia Leone a questo punto diamo spazio al raggruppamento vincitore del contest che vorrei ricordare si compone, come abbiamo raccontato anche la volta scorsa i dodici soggetti di cui sette studi di progettazione architettonica urbana e paesaggistica e quattro società di ingegneria più appunto un agronomo la cui attività ha sede in ambito internazionale e nazionale infatti sono studi che hanno una natura giovane ed emergente però hanno già collezionato alcuni premi e perché? Perché hanno competenze che coprono un ampio ventaglio di interventi quale ad esempio la rigenerazione urbana ed ambientale la realizzazione di infrastrutture viarie e nuovi edifici residenziali per il terziario ma anche piste ciclabili passeggiate pedonali parchi e giardini e aree per il gioco e per lo sport che tra l'altro alcune di queste di questi tagli appunto li rivedremo tra brevissimo tra l'altro inoltre sono società come abbiamo detto anche di ingegneria che garantiscono competenze in campo appunto di progettazione strutturale e impiantistica di coordinamento della sicurezza di direzione dei lavori oltre che delle diagnosi e degli studi di fattibilità e della pianificazione energetica attraverso l'applicazione di modelli sostenibili e tecnologie bioclimatiche quindi l'attività professionale fortemente caratterizzata da questo gruppo di interazione di competenze specialistiche multidisciplinari che sono quindi in grado di operare nelle diverse scale del progetto e per farlo bisogna farlo chiaramente in modo flessibile e per questo motivo si sono raggruppati in modo anche molto polivalente con una forte attenzione all'innovazione e alla ricerca e quindi come abbiamo già anticipato partiamo con il primo dei progettisti che racconta un po' la parte relativa appunto al tema di oggi quindi edifici esistenti e nuove costruzioni e quindi diamo la palla in questo palco digitale all'architetto Federico Bargone ben ritrovato Federico grazie Francesco buonasera buonasera a tutti e ben ritrovati grazie ancora della presentazione splendida e io partirei subito condividendo la presentazione di oggi che parte dal da questa prima slide in cui vediamo a sinistra il praru lo strumento urbanistico che è la nostra base di la nostra ossatura portante sul quale abbiamo sviluppato il masterplan che è l'immagine di destra e che veste come abbiamo già detto il praro lo strumento urbanistico e che lo rende come dire ne integra tutte le varie parti in questo senso abbiamo anche in questa immagine di destra abbiamo appunto di colore rosso le edifici esistenti in colore giallo gli edifici nuovi le nuove costruzioni e poi i tre paesaggi che si combinano in e si integrano nel nel parco e quindi il paesaggio abbiamo detto il parco naturaliforme il parco produttivo e il parco urbano più in lato bagnoli a questo punto con questa immagine evidenziato in celeste abbiamo le varie aree tematiche che dove nelle quali abbiamo oltre al parco noi abbiamo immaginato abbiamo come dire ideato un po' tutto quello che è il contesto cioè tutto quello che si sviluppa intorno al margine del parco che in parte è relazionato attraverso le infrastrutture che sono alla base del concorso e in parte è stato oggetto di una nuova definizione di una serie di percorsi che abbiamo valutato nella seconda puntata e di oltre alla progettazione in sé del cuore verde di questo sistema partendo a questo punto abbiamo predisposto come materiale diciamo nuovo se vogliamo rispetto a quanto visto nelle recenti occasioni un video un pochino tra virgolette estremo un po' crudo nel senso che presenta abbiamo spento il verde e abbiamo rappresenteremo solo le tra virgolette le architetture il costruito quindi il costruito esistente e il costruito di progetto facendo un giro in senso orario a partire dal centro velico per seguendo Borgo Coroglio per poi arrivare al miglio borbonico quindi all'area tematica 2 per arrivare quindi alla porta del parco l'area 4 e quindi girare intorno alla centralità del parco il verde ripeto è spento avremo modo di condividere questa nudità tra virgolette e quindi questo di verificare l'assetto delle volumetrie e il rapporto tra pieni e vuoti ecco molto importante diciamo anche sottolineare che si tratta di un work in progress è una cosa che stiamo facendo che abbiamo fatto e che stiamo ancora mettendo a punto e che quindi presenta tutte le imperfezioni di un lavoro che è in elaborazione e che si sta via via precisando le radure le centralità queste questi pallocchi colorati rappresentano poi l'individuazione delle singole archeologie e di questi nodi funzionali direi che si aprono nel verde che hanno sempre il senso di raccordare le architetture esistenti le archeologie al master plan generale vado al video velocemente ecco le radure tematiche e quindi parto con il video che come vedete è un po' come fosse una sorta di plastico di modello plastico non c'è non c'è natura abbiamo il centro velico qui in basso a sinistra stiamo prendendo via Coroglio e quindi Borgo Coroglio che sarà riqualificato e raccordato alla spiaggia la città della scienza con il suo ampliamento a questo punto abbiamo modo di entrare nella sistemazione della spiaggia con tutti i piccoli volumi di servizio alla balneazione e alle attività turistiche i laghetti dunali e retrodunali quindi stiamo percorrendo via Coroglio che è interamente trasformata come abbiamo già avuto modo di raccontare in un boulevard ciclopedonale che quasi crea una saldatura tra parco e spiaggia piccoli osservatori nel parco e quindi arriviamo al miglio al pontile che si prolunga e si si inserisce quasi nel parco come segno di paesaggio segno un allenamento funzionale che abbiamo definito anche miglio borbonio quindi la passerella che continua attorno alla quale vengono realizzati i nuovi edifici le nuove costruzioni residenziali e commerciali in un mix funzionale che si attesta al pontile panoramico e funzionale ripeto perché va dal pontile fino alla porta del parco dove stiamo arrivando adesso alla porta del parco incontriamo le varie archeologie bagnoli di sfondo questo è il parco urbano la parte più urbana del disegno del masterplan ecco che arriviamo alle aree tematiche di via cocchia e quindi con gli edifici esistenti tutto lo sviluppo il nuovo sviluppo dell'area 4 l'area 1F che abbiamo disegnato con un piccolo borgo residenziale a corte percorrendo il prolungamento di via cocchia verso l'ex acciaieria tutto quello che è il nuovo sviluppo di volumetrie contemporanee fino ad arrivare a quello che abbiamo definito il la torre verde il faro verde quindi l'ex acciaieria la piazza rialzata verde e quindi il mercato coperto dell'area tematica 3 ci stiamo ricongiungendo quindi al parco dello sport e da qui rispondo le nuove architetture che si confrontano con l'ex acciaieria e abbiamo concluso a questo punto torna la visione effettivamente in cui torna il paesaggio torna nei tre paesaggi e ripartiamo questo giro da dal miglio borbonico dalle nuove architetture che si attestano che sviluppano il quartiere di Bagnoli verso il parco la centralità del parco e quindi a questo punto passerei la parola a Riccardo Miselli per ulteriormente sviluppare questa riflessione eccoci grazie mille Federico a te Riccardo eccoci siamo appunto al miglio borbonico che massimizza una sostanziale idea progettuale ecco c'è da dire una premessa generale sull'approccio con cui abbiamo definito le varie volumetrie come sapete i dati insediattivi e carici diciamo volumetrici erano già definiti dal parco lo che hanno fatto noi è stato semplicemente per virgolette dargli delle forne e delle suggestioni volumetriche anche in relazione ad un aspetto fondamentale che è stato quello di progettarle in maniera organica al parco nel senso che le nostre non sono diciamo a valle di un disegno di paesaggio sul quale abbiamo poi inserito dei volumi ma le articolazioni volumetriche le scelte in qualche modo tipologiche che abbiamo prefigurato nascono da una visione organica dell'insieme appunto come vedete in queste immagini questo è il miglior borbonico in cui si evidenzia un aspetto fondamentale che è quella anche della minimizzazione della sezione di impatto visivo dell'edificio come vedete è un edificio molto stretto lungo che nella vista dalla porta del parco verso il paesaggio verso il paesaggio ha una sezione molto per avere in qualche modo una sorta di sospensione nel livello inferiore in maniera tale che in qualche modo fa sì che la parte di Bagnoli Vecchia e la parte del parco come dire interagiscono a livello strada a livello inferiore al contempo maxi lo immaginate in qualche modo anche da voi una grande quinta un grande schermo in qualche modo dei vari livelli che questo edificio va a qualificare che in qualche modo anche per quanto ci riguarda è stata una scelta per definire un fondo un fondale una sorta di quinta da quello che è la vista di questo volume dal parco e anche da Bagnoli in qualche modo è una grande infrastruttura urbana una sorta di nardo una sorta di vascello formeggiata tra il parco e Bagnoli Vecchia tra questa stetta tra questo edificio e Bagnoli poi ci sono una serie di volumi residenziali pensati un po' come una sorta di arcipelago di edifici che hanno il compito anche di modulare e mediare il rapporto della scala di Bagnoli del centro storico del centro abitato di Bagnoli con la parte un po' più legata al luogo procedendo Riccardo scusa vai vai Francesco no volevo se Federico torna indietro nell'immagine indicare solo una cosa che per noi è stata molto importante si vedeva anche nel video bene un tema diciamo la ricerca di rafforzare potentemente le relazioni tra il quartiere dei Bagnoli e tutta questa parte di Nuova Bagnoli sapendo che c'è un dislivello tra l'area e la via di Bagnoli quindi si sono viste sia nel video sia in un'immagine prima questi diciamo terrazzamenti urbani cioè questo sistema di spazi pubblici e semi pubblici semi privati di mediazione e anche le altezze di questi edifici che stavi citando adesso che sono quelli che si vedono sulla destra dell'immagine le altezze variano in funzione di questi terrazzamenti proprio per per aiutare una relazione che dicevamo nel primo incontro oggi è ancora fortemente negata dal problema della Cumana però almeno dalla via di Bagnoli si riesce con questo tipo di edificazione e di assetto a cercare di definire una nuova relazione una relazione più diretta grazie era solo questo appunto facciamo così che è sicuramente più efficace anche la comunicazione di fatto come avete compreso per noi le visuali i punti di vista l'impatto volumetrico che non è diciamo una scelta nostra ma era un dato di partenza e come questo è articolato è in qualche modo uno strumento di progetto ed è tema poi sostanzialmente perché è stato declinato con una ricchezza tipologica nell'insieme molto eterogenea nel senso che abbiamo ovviamente valorizzato ogni punto del parco in ogni situazione non riproponiamo il medesimo modello insediativo ma in qualche modo di volta in volta valorizzando quelle che sono le emergenze al contorno e facendo in modo anche che l'edificato o meglio il pieno sia anche un elemento di ricuciture in qualche modo con il con il contesto circostante qui vediamo appunto la parte compresa o meglio retro di via Cocchia la parte compresa tra la collinetta di Santa Teresa e l'asse di via Cocchia in cui appunto la matrice insediativa di questa parte di città è per noi uno strumento insediativo di questa nuova edificato un edificato a tre parti aggregate in maniera variegata tra loro in cui sostanzialmente viene valorizzato il rapporto tra interno e esterno di questi spazi che vengono in qualche modo a definire degli ambiti privilegiati rispetto in questa immagine soprattutto quella sulla destra è molto efficace anche la vista del comparto 1F che è sostanzialmente un tessuto orizzontale di matrice insediativa monopiano sostanzialmente che viene declinato in maniera strategica anche rispetto a quelli che sono da un lato i vincoli che avevamo di altezza e dall'altro anche quelle che sono le prospettive visive nel senso che percorrendo i tracciati che lambiscono il comparto in realtà non si ha la percezione di un edificato emergente ma in qualche modo si ha la sensazione di questa unità orizzontale in qualche modo a un livello inferiore e quindi anche l'inserimento del paesaggio la percezione di questo edificato è abbastanza contenuta e modulata Francesco non so se hai qualcosa da aggiungere no no questo è per me la questione del rapporto abbiamo lavorato moltissimo per capire come accanto al tessuto che vedete di via Cocchia che è una tipologia urbana molto definita morfologicamente molto chiara trovare un equilibrio nel rapportarsi da un verso con gli edifici dell'area dell'area 4 perdonate l'interruzione scusatemi posso chiedervi di accendere la webcam ah scusate così faccio vedere grazie scusate dicevo questo nodo non era non era semplicissimo perché il tessuto di via Cocchia ha una sua tipologia e una morfologia urbana evidente è stato progettato in modo unitario appartiene a una certa epoca ha un suo senso ha una sua notevole qualità quindi nella parte dell'area tematica 4 in cui siamo a contatto con questo diciamo la scelta e poi anche l'evoluzione che è in corso del progetto compreso non aver perso la collina di Santa Teresa e quant'altro ci chiedeva un'attenzione proprio di di assetto morfologico che che dialogasse fortemente con quell'elemento senza cercare diciamo così né delle imitazioni da un verso né il rischio di diciamo umiliarlo urbanisticamente perché ha una sua grandissima dignità questo questo tratto di di via Cocchia come diceva Riccardo invece il tessuto che abbiamo qui sotto in primo piano era era fortemente diciamo condizionato dalle prescrizioni di tipo paesaggistico della superintendenza e quindi la scelta in una specie di campionario di Bagnoli dal punto di vista tipologico architettonico è stata quella che avete visto però questo a noi non dispiace diciamo cioè siamo convinti che espressioni architettoniche che apparentemente sembrano così distanti invece sono tenute da un disegno unitario insieme e sono motivate rispetto ai vari siti nei quali si collocano grazie Riccardo ti ripasso la parola stammi visibile così nel caso no appunto diciamo che il concetto che ha come dire la base delle nostre scelte tipologiche è stato quello di radicarsi all'esistente sostanzialmente interpretandolo e come dire traducendolo in qualche modo anche in chiave contemporane e quindi come dire il rapporto con la città con i suoi tracciati con i suoi allineamenti con le sue volumetrie è stato per noi diciamo un elemento base sulla scelta appunto delle varie tipologie come vediamo appunto in questo caso qui la parte in basso a destra che è quella della città temporanea che prevede sostanzialmente questo edificato di lineare che ha il grande pregio sostanzialmente da un lato di relazionarsi con le parti a monte quindi diciamo con l'area di trasformazione o comunque le parti che stanno a monte e dall'altro lato con questa sezione delle volumetrie molto misurata garantisce una grande permeabilità visiva una grande trasparenza tra quelli che sono i tracciati e lo spazio aperto e quello che è il pieno in questo caso qui vediamo appunto la parte uno dei pezzi forti diciamo del rapporto con il costruito che appunto come abbiamo visto per noi il rapporto con il costruito non è solo l'edificato archeologico industriale ma il rapporto con il costruito è la matrice anche insediativa e la struttura urbana di Bagnoli nelle sue varie tracce e nelle sue varie stratificazioni che è incredibile a in questo caso vediamo diciamo il cuore pulsante del parco che è quello che prevede la valorizzazione della vocazione originaria del luogo che è quella termale sostanzialmente e quindi da un lato vediamo l'acciaieria che appunto verrà riutilizzata sulla base di alcuni principi generali che sono quelli al di là ovviamente dell'accessibilità e della sicurezza anche quelli dell'uso e della valorizzazione dello spazio l'uso e la valorizzazione e amplificazione un po' anche del rapporto tra interno e esterno il fatto anche che possa essere in qualche modo ovviamente occupata nel corso delle ore delle stagioni e delle varie situazioni e là giù più sul fondo vediamo appunto la torre verde che è in qualche modo un nuovo landmark che in sua volumetria ci ha permesso avendola concentrato in un punto da un lato qualificare un dispositivo urbano di orientamento anche particolarmente efficace alla scala del paesaggio del territorio ma peraltro anche la possibilità di avere degli indici un po' più contenuti su quelle che sono le volumetrie circostanti qui vediamo la parte del Scusa aspetta se torni indietro i due slide Federico per favore ecco qui la scelta adesso dico un po' monumentale diciamo di queste due architetture e della piazza soprelevata con sotto il parcheggio nasce dal fatto che questo è l'hub urbano del trasporto probabilmente più significativo dell'area cioè qui arriverà la metro con la fermata acciaieria è previsto un grande parcheggio che è quello che è accolto sotto la piazza verde che vedete evidentemente qui ci sarà una concentrazione di movimenti anche perché le funzioni che saranno nelle acciaierie saranno certamente attrattive quindi una quota pensiamo significativa di quei nove milioni che si dicevano all'inizio passeranno per questo luogo e quindi anche qui abbiamo pensato di dare una forma una riconoscibilità come stava dicendo Riccardo anche con un elemento verticale da lontano per orientarsi e ritrovare la stazione della metro e ritrovare delle funzioni significative concentrate attorno a questo che però proprio per questa loro significatività hanno assunto anche dal punto di vista formale architettonico un rilievo e una posso dire unicità rispetto al resto grazie qui stiamo andando appunto verso Cosilli poi vediamo la parte della base nautica e della parte alberghiera in qualche modo qui diciamo il linguaggio è più temporaneo è più una cosa legata alla nautica diciamo un'atmosfera più legata al mare all'uso e al rapporto con lo spazio aperto in qualche modo tipico di strutture di questo tipo con una serie di perdolati che fanno sì che durante il giorno si possa vivere lo spazio aperto piuttosto che quello chiuso con una grande permeabilità quindi e da un lato i gumi hanno anche il compito di relazionarsi su due quote da un lato quella dell'infrastruttura e dall'altro quello della spiaggia e della parte della parte sotto qui vediamo un frammento un'immagine di Borgo Coroglio sostanzialmente lo spirito era quello di riconquistare il rapporto tra il borgo e la spiaggia questa cosa qui che nel tempo degli anni è stata via via negata forse come dire in questa immagine qui si nota abbastanza ma il nostro obiettivo è diciamo di ristabilire una continuità una continuità che miscela come dire in un collage anche pop tra virgolette Borgo Coroglio l'estensione dell'ampliamento della città della scienza e laggiù in fondo ancora l'acciaieria in maniera tale che come dire il turista sia anche in qualche modo invogliato a vivere un paesaggio in cui ci sono anche questi cortocircuiti tra ciò che è il passato il presente e il futuro e anche in cui l'architettura diciamo gioca un ruolo dispositivo e attrattivo e alchemico in qualche modo di un paesaggio contemporaneo qui vediamo la parte del lungomare sostanzialmente che è una parte in evoluzione progettuale e lo spirito in qualche modo qui era introdurre sia da un lato dei dispositivi prospettici dei punti focali no delle dei sassi degli oggetti anche in qualche modo astratti che potessero da un lato dare un supporto a quelle che sono le attività della pioggia e dall'altro dare un senso anche di orientamento perché quando tu cammini lungo questo lungomare molto lungo avere come dire degli oggetti che via via si alternano da un lato dall'altro tu hai modo in qualche modo di passarci in mezzo creano una stanza molto varia e dall'altro come li vediamo in queste immagini e da un lato un obiettivo fondamentale è quello di stabilire una continuità tra quello che è il parco l'infrastruttura e il paesaggio della spiaggia in qualche modo concentrando le volumetrie in punti specifici e non avendola distribuita abbiamo come dire queste cose che vedete in queste immagini ovvero la continuità e la possibilità di percepire percorrendo l'infrastruttura la continuità e del paesaggio che è un elemento sostanzialmente per noi importante questi stasolini che dialogano con le isole con questo paesaggio che abbiamo giocano una fanno come dire costruiscono il paesaggio in qualche modo e si inseriscono nell'insieme raggiungo questo che è importante perché il diciamo il dato di partenza del del concorso diciamo introduceva degli elementi con una certa rigidità possiamo dire così abbiamo fin dall'inizio condiviso il fatto che una spiaggia urbana perché questa sarà di fatto una spiaggia usata da da una città abbia bisogno di un'offerta multipla di servizi e che e che l'arrivare l'arrivare fino alla nuova spiaggia di bagnoli poi domandi una serie di attività e di funzione legata proprio alla fruizione di questa parte possiamo esagerare dicendo che comunque la spiaggia è parte del parco cioè è un parco che non solo ha i tre parchi che diceva Federico Bargona all'inizio ma c'ha una quarta parte del parco che è esattamente questa transizione quando cominciano le dune e ci si ritrova di nuovo sulla spiaggia una spiaggia che poi in effetti è molto lunga adesso evidentemente ci concentriamo sulla parte dove con la nostra proposta prevediamo la riproposizione delle dune e con gli specchi d'acqua retrodunali e quant'altro però è vero che la spiaggia è molto lunga e quindi diciamo garantire un'offerta di servizi in questo modo diciamo articolato ci è sembrato più funzionale a questo a questo obiettivo esatto e hanno anche diciamo un ruolo di cerniera questi oggetti tra quello che è il sistema dei percorsi transali e quello che sono diciamo l'elemento longitudinale quindi si posizionano un po' come tanti piccoli padiglioncini nella logica dei vari parti contemporanei a cerniera tra i vari percorsi andiamo alla luce Stefania ci sei? ci sono eccomi qua presente il tempo di accendere buonasera il tema luce io sono la consulente di questo gruppo di progettazione è stato affrontato per immaginare questa nuova questa restituzione di questa molto grossa al territorio valutando una luce che assecondasse l'articolazione del verde dei nuovi edifici e la valorizzazione della storia dell'archeologia industriale di questo luogo quindi una un'illuminazione dedicata poetica per valorizzare proprio l'interezza di questa di quest'area di questo nuovo progetto motivo per il quale si è deciso di non intervenire di non immaginare praticamente sicuramente in questa prima fase impiantazioni di lampioni pedonali quindi grosse infrastrutture che andassero a creare una luce diffusa piatta quindi se Federico vuoi scorrere poi torniamo su questa immagine ho cercato di dare dei riferimenti puntuali che chiaramente nella complessità del progetto in quella visione precedente non si potevano percepire per spiegare meglio cosa intendo per l'illuminazione di accento che va a valorizzare i singoli elementi sul verde come potete vedere si è pensato a lavorare con una con una temperatura di colore calda perché questo permette la valorizzazione sicuramente del verde ma permette anche la garanzia di alle persone di percepire un senso di sicurezza perché quando si parla di illuminazione molte volte si fatica e si pensa che il lampione stradale il lampione podonale dando questa illuminazione diffusa garantita quel senso di insicurezza quando lo si percorre ora chiaramente noi non sappiamo adesso gli orari di apertura del parco come funzionerà tutta questa area ma non è questo quello che ci interessa perché a prescindere dalla percorrenza e dagli orari noi ci immaginiamo che almeno per una parte della della visione del parco anche dal di fuori potremmo comunque restituire un'anima a quest'area cioè non è che all'introviso col buio tutto questo si spegne quindi sul verde interveniamo in questo modo scenografico di valorizzazione quindi sempre anche in questo caso per riflessione mentre invece sulle e non solo in questo modo ma ci immaginavamo di interagire in modo anche un po' artistico scenografico inserendo all'interno di questi percorsi pedonali anche steli luminosi come potete vedere in certe immagini di riferimento quindi è come se noi ci immaginassimo una scenografia permanente che permetta a chi la attraversa di sentirsi accolto differentemente ma sempre con lo stesso principio andiamo ad intervenire sulle architetture quindi l'architettura industriale qua adesso è un'immagine di riferimento che fa capire come la si voglia valorizzare con un'illuminazione puntuale che permetta la restituzione di quello che è la struttura e quindi la storia di quest'area sempre attenti a occupare uno spazio anche per un discorso di inquinamento luminoso più ampio rispetto alla struttura quindi fasci puntuali fasci che seguono l'architettura e la struttura con ottiche molto strette insomma andando nel tecnicismo sulle passeree su quello che è il paesaggio che si affaccia poi sull'acqua ma anche su alcuni percorsi anche faccio riferimento all'area dove abbiamo i laghetti ci immaginiamo percorsi con un'illuminazione radente o per riflessione sulla superficie dello specchio acqua questo è per far capire come l'approccio anche all'illuminazione sia un approccio innovativo sicuramente pochi esempi abbiamo in Italia che affrontano il tema della luce in questo modo e qui noi vogliamo proprio azzardare questo approccio non dico che non si non si riterrà in una seconda fase in un progetto preliminare definitivo la necessità di intervenire con piccoli lampioni pedonali per garantire quei livelli di illuminamento che la normativa ci suggerisce ma in questo modo io ci tenevo a raccontare un po' la poesia l'intenzione che sposava il progetto se torniamo un attimo indietro Federico vediamo che anche le architetture anche il nuovo edificato è stato pensato non illuminando gli edifici da fuori ma facendo sì che è un'illuminazione dell'interno delle finestre delle bucature per riflesso via l'interezza tridimensionalità di questi edifici quindi chiaramente in questo render che è puramente indicativo ripeto si è data in prevalenza all'architettura le volumetrie proprio perché il tema anche della giornata era un po' questo e quindi sul verde abbiamo lasciato un attimo più di oscurità ma solo perché era necessario andare a lavorare puntigliosamente sulle singole aree e sarebbe poi risultata una chiazza di luce che non spiegava l'intenzione io penso che grazie Stefania prego torniamo alla vista d'insieme non so se le nostre due perle rare Enrico e Luciano vogliono introdurre vogliono aggiungere qualcosa no oggi sono grazie grazie mille Federico che stai adempiendo insomma questo ruolo da moderatore di tutti i progettisti all'atere era anche il tema dell'illuminazione è stata interessante l'operazione che è stata portata avanti ora da Stefania ed è però il tema dell'illuminazione del verde è un tema veramente molto ampio che ovviamente sarà trattato in una fase più specifica insomma che darà poi giustamente lei faceva capire che l'illuminazione del verde è un'illuminazione molto spesso scenografica e puntuale insomma dare illuminazione ampia al verde genera confusione genera anzi riduzione della qualità diciamo complessiva della paesaggistica ricordiamoci che il parco di Bagnoli si vedrà in maniera straordinaria diciamo dal virgiliano quindi da tutta l'affaccio diciamo che è dalla diciamo da posillipo verso appunto verso il bagnole puntualizzo scusate puntualizzo una cosa che non ho detto chiaramente dicevamo prima che in questa fase siamo sull'intenzione ma il verde poi va nel momento in cui si progetta è necessario un dialogo con gli agronomi con chi di verde ha la consulenza così come anche in riferimento agli animali cioè c'è tutto uno studio poi parallelo che deve essere affrontato con gli specialisti di materie che devono dare delle linee guida e le esigenze di quella di quella parte fare tutto ma non fare diciamo i percorsi troppo illuminati perché poi dopo alla fine esattamente potrebbe rendere la cosa diciamo oltre che diciamo abbastanza banale insomma che potrebbe creare qualche problema esatto mi permetto anche di dire che per quanto riguarda l'illuminazione del verde troppo spesso appunto dal discorso che faceva Stefania veniva veniva molto fuori molto spesso i parchi anche i parchi urbani si trattano come si tratta la città molto spesso cioè pensando sempre a un una percorrenza e a un'illuminazione come come diciamo sui viali urbani sulle situazioni urbane mentre invece si tratta di trovare un altro racconto per questo tipo di situazioni che faccia anche avere una visione notturna che è ben diversa da quella diurna sembra una banalità ma invece quando andiamo ad illuminare a tutto spiano e in maniera come dire poco analitica una situazione di prati per esempio andiamo a realizzare un qualcosa che non è non ha nulla a che fare con la natura e con il naturale grazie forse Federico se tornerei un attimo perché forse siamo andati troppo veloci sulla questione della diciamo delle delle vocazioni funzionali delle delle archeologie industriali magari proprio con la con la planimetria quella con le con le definizioni delle dei luoghi e delle radure quella ci aiuta a capire meglio questa questa cosa stava un po' all'inizio se non sbaglio Francesco ti ricordo che mi sono dimenticato di farmi vedere e perdonatemi scusate scusate adesso arriveremo però questo per cominciare il ragionamento sul fatto che che diciamo la la le archeologie industriali sono sono di proprietà pubblica dobbiamo conciliare i temi che venivano detti all'inizio vale a dire delle funzioni di di servizio allo stesso tempo in alcuni casi per esempio l'acciaieria ha un tema evidentemente di fattibilità economica soltanto di tenerla diciamo conservata e quindi ecco rispetto alle varie definizioni dei luoghi e delle radure la radura del benessere della della grande acciaieria come ricorderete è legata in parte alla questione delle terme ma nel benessere si scrivono altre attività altre funzioni quella del cibo del mangiare bene quella del forse anche del promuovere e commercializzare i prodotti che sono che sono diciamo provenienti dal parco produttivo la radura dei giovani avrà degli spazi e delle funzioni che sono di tipo sociale del divertimento che possono essere tranquillamente legate al 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 quartiere al quartiere di di bagnoli la parte della la radura della musica allo stesso modo abbiamo un'idea sì ci può essere uno spazio se volete anche commerciale di musica ma è anche un luogo di creatività è uno spazio possono essere degli spazi a disposizione per per chi vuole suonare chi vuole fare lezione di musica per conoscere la cultura musicale insomma l'idea soprattutto per l'archeologia industriale è di andare in questa direzione la radura del vino probabilmente mischierà attività educative sulla questione della coltivazione e della produzione del vino che peraltro avviene nello spazio agricolo accanto e forse un giorno avremo anche il vino di Balneolis sicuramente che si potrà degustare si potrà commercializzare quindi è un insieme diciamo che lo dico così non è difficile immaginare guardando la la contemporanea nella contemporaneità aree di questo tipo in altre città del mondo in Francia ci sono diversi esempi in cui la Annanta a Bordeaux adesso cito alcuni alcuni luoghi in cui la rigenerazione urbana ha portato un certo tipo di funzioni che sono quelle che come esseri umani oggi richiediamo che hanno a che fare con l'Uasir hanno a che fare con con appunto il tempo libero hanno a che fare con la cultura hanno a che fare con le funzioni sociali che un quartiere come quello di Bagnoli richiede fino al appunto al benessere avere spazi come si diceva del fitness insomma sarà un croggiolo di funzioni soprattutto questa parte degli edifici esistenti che siano quelli che ci derivano da Bagnoli Futuro o siano quelli dell'archeologia industriale che hanno la loro delicatezza dal punto di vista del restauro proprio della conservazione dei manufatti e della loro più o meno spinta flessibilità nell'accogliere delle destinazioni d'uso grazie esatto tra l'altro abbiamo sentito prima dagli interventi introduttivi che la porta del parco avrà una vocazione teatrale sperimentale diciamo aperta per un certo tipo di attività e in qualche modo tutto ciò si collega perfettamente alle forme che ci siamo immaginati quindi con la possibilità di estendere la porta del parco anche agli spazi esterni delle nostre radure in maniera tale che alcuni tipi di attività possono essere fatte al chiuso all'aperto in una logica di spazio pubblico contemporaneo che non ha diciamo una sua definizione scientifica e disegnata ma che accoglie una poliedricità di possibilità di attività di varia natura anche per le attività in qualche modo ci attacchiamo al contesto che siano già quelle un po' disegnate della porta del parco ma anche quelle in qualche modo sociali sociali anche che possono in qualche modo occupare e prevedere delle attività flessibili ok Francesco io direi di chiudere questo nostro terzo momento di illustrazione con il video da cui siamo partiti perché se non fermiamo i miei colleghi arriviamo all'ora di cena lascerei spazio alle domande agli interventi si è dato spazio non ho voluto interrompervi perché il flusso andava bene ma loro sono cintura nera di questo per cui vado col video e così chiudiamo la nostra introduzione diciamo così ricondividiamolo eccolo qua c'è qualche problema non so se ci può aiutare Giacomo in qualche modo penso che in questo momento noi non lo sentiamo per un momento si è sentito Federico sì magari torniamo indietro ti ricordo nella condivisione di dare il check sulla di dare il check sulla spunta condividi audio esatto magari dovresti ricondividere con la spunta audio si sentiamo bene facciamo così ti blocco io la condivisione così puoi rilanciarla ci ritroviamo quando vai a condividere in bassa a sinistra giusto Giacomo c'è un tastino sì 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 già abbiamo fatto il test prima Federico è esperto vorrei allora riproviamo eccolo qua condividi suono giù li vedete? vediamo praticamente l'altro l'altro monitor ci riproviamo ci riproviamo è conclusa questa fase con questo video poi spazio alla fase di Q&A anticipo insomma come hanno già fatto alcuni di voi come verrà come vanno raccolte le domande quindi basta andare sul tasto chat e interagire con l'account regia Q&A indicare lì le vostre domande a quel punto noi le raccogliamo e le mostriamo in ordine cronologico vado? perfetto credo che la parte più importante sia stata proprio quella relativa al paesaggio d'altro canto questo è un progetto di paesaggio sia per dimensioni siamo sui 250 ettari ma soprattutto per il luogo dove insiste in realtà Balneolis Felix è il titolo della nostra partecipazione vuol dire proprio piccoli bagni Felix nel senso proprio di fecondo riferito a quello che la terra produceva ma riferito al luogo all'attività vulcanica a tutto quello che questo paesaggio speciale è e che nel progetto vogliamo recuperare innanzitutto con un rapporto preciso con la natura il versante nord della collina di Posillipo è un versante ricco di biodiversità ancora di una natura tipica selvaggia bellissima quindi il progetto si sviluppa con tre grandi aree che si intersecano tra di loro di progetto cosiddetto a verde in realtà di vegetazione di tessuto biotico che si ricollega all'esistente e andremo ancora di nuovo a produrre agricoltura un'agricoltura biologica un'agricoltura fondata sulle antiche varietà in realtà la natura sta già agendo grazie grazie mille Federico è sempre emozionante abbiamo visto alla prima appuntamento li vediamo a questo terzo appuntamento questo questo filmato ma ringraziamo chiaramente tutti i progettisti che sono intervenuti che interverranno adesso nuovamente per la fase di Q&A quindi ci tengo a ringraziare nuovamente Federico Bargone Enrico Auletta Riccardo Miselli Stefania Toro Francesco Nicolo e Luciano Mauro adesso a questo punto come annunciato parte la la sessione di Q&A quindi di fatto raccogliamo appunto le vostre domande in chat e rispondiamo qui facendo intervenire nuovamente i relatori di oggi quindi nuovamente per partecipare a questa sessione basterà come ripeto andare nella tasto chat che trovate in basso su Zoom e interagire con l'unica opzione che avete che è quella là di regia e Q&A quindi potete scrivere lì le vostre domande noi le raccogliamo a poco a poco le condividiamo e ne facciamo tesoro degli spunti che vengono fuori e del chiaramente di un dibattito che si accende intorno ai temi che decidete di tirar fuori quindi a questo punto passiamo con la prima domanda quindi ricordiamo andiamo sempre in ordine tecnologico e partiamo chiaramente dall'architetto Buffa che ringraziamo che ha partecipato anche alle altre due edizioni allora la domanda è risulta molto interessante la conformazione architettonica dell'area decente via Bagnoli in particolare per ciò che riguarda le funzioni terziarie sono già stati immaginati dei possibili usi per il vascello e per la torre adesso adiacente come tali usi potrebbero integrarsi con quelli del quartiere di Bagnoli ci chiede l'architetto Buffa magari questa potrebbe essere una domanda per i progettisti chiedo chiedo il vostro contributo o comunque il contributo di qualunque chi si candida diciamo allora no no inizio la allora queste le due le due aree tematiche che sono poi la parte rispetto a questa immagine quella più ecco questa sulla destra con diciamo gli edifici più bassi lì è una prevalenza di residenziale e e anche il vascello avrà una sua quota di residenziale che però si mischiano a delle funzioni commerciali e comunque diciamo questa è una parte passatemi il termine molto urbana diciamo che si integra completamente al tesoro di bagnoli quindi assume prevalentemente questo connotato quindi di mischiare la residenza con con delle funzioni del commercio tipico urbano e però anche con delle funzioni che possono essere di servizio sempre nell'ambito del diciamo del servizio alla popolazione alla persona cosiddetto diciamo questa è la connotazione principale per quest'area anche diciamo così prevista nell'indicazioni urbanistiche del del praro se posso aggiungere direi che c'è anche c'è anche un sopra e un sotto abbiamo un doppio livello cioè questa diciamo il miglio borbonico in realtà definisce sì il margine tra o comunque il collegamento tra bagnoli e il parco ma allo stesso tempo ne crea le relazioni che sono trasversali longitudinali perché il pontile lo attraversiamo e dal mare ci realizza una connessione da porta al parco fino alla spiaggia allo stesso tempo la gradonata scende e raccorda via bagnoli per passare al di sotto del miglio e fruirne di tutti i servizi che sono alla base dell'edilizia del grande della stecca lineare e quindi poi per introdurre alla funzionalità all'ingresso e alla funzionalità del parco vero e proprio con questa gradualità tra l'urbano e direi l'extraurbano tra virgolette perfetto grazie mille grazie mille sia a Francesco che a Federico per la prima risposta abbiamo rotto il ghiaccio passiamo alla seconda la seconda diciamo è una domanda di carattere logistico quindi possiamo anticipare che la riunione insomma il midi di oggi è registrato lo potete trovare insieme agli altri due eventi disponibili all'interno del sito bagnolicontest.invitalia.it disponiamo così all'architetto Giuseppe D'Angelo che ringraziamo l'altra domanda è sempre abbastanza relativa al bagnolicontest.invitalia.it nella sezione dedicata al progetto vincitore infatti si può trovare il dossier pubblicato che riguarda appunto la domanda di Anna Savarese che ringraziamo che ci chiede perché non ci sono sezioni per avere contezza delle altimetrie delle configurazioni del suolo quindi basterà accedere alla sezione dedicata nel sito nel progetto del vincitore e quindi lì troverete il dossier che può fornirvi queste informazioni poi andiamo alla domanda successiva sempre di Anna Savarese che uniamo le due domande le destiniamo all'archetto Giulia Leoni e sono le seguenti quanti ettari sono occupati dall'edificio nuovo e quanta superficie è impermeabilizzata sul totale pardon allora quanti ettari è l'edificio tutto il nuovo edificato questa sarà la domanda noi ad oggi abbiamo come norme tecniche di attuazione definito esclusivamente la volumetria il risultato diciamo del concorso ci individuerà l'area di sedime dei manufatti in funzione dell'altezza proposta dai vincitori ora esattamente il dettaglio di questo elemento non l'ho estrapolato quindi sicuramente risponderemo se la domanda viene riportata e quindi identificheremo esattamente l'area di sedime dei manufatti rispetto alla nuova proposta rispetto alla superficie impermeabilizzata sappiamo che le fondi aria ad oggi rappresentano una quantità limitata rispetto all'estensione complensiva di tutta quanta l'area e sappiamo che la volumetria è abbastanza diciamo localizzata e compattata nelle aree perimetrali dell'area di Bagnoli sicuramente bisognerà fare attenzione in fase di progettazione a quanta sarà diciamo la superficie impermeabilizzata delle singole fondiarie pur ricordando ci che comunque abbiamo una quantità di parco dove già all'interno delle norme tecniche di attuazione si rimanda una impermeabilizzazione di superficie massima del 3% quindi il dettaglio dell'impermeabilizzazione delle fondiarie è diciamo di successiva fase di approfondimento progettuale grazie grazie mille posso aggiungere una cosa scusa Giulia certo che comunque per dare i numeri che non sono neanche quelli del concorso e quelli del Praru sono più di 196 ettari di aree verdi tra le diverse tipologie di parco la spiaggia e quant'altro però la superficie edificata o ve la ricordate voi al volo con la vostra proposta io non me la ricordo stavo cercando di fare una sottrazione diciamo se il totale sono 230 ettari all'incirca diciamo ci saranno una 35 40 ettari di aree che sono trasformate in senso insediativo esatto dopodiché come dicevi tu come mi pare ho già detto l'altra volta non è che questi 35 40 ettari sono impermeabilizzati in modo impossibile anzi è proprio la qualità della città che vogliamo fare adesso è che queste aree nonostante siano urbanizzate con gli edifici e le funzioni urbane garantiscano prestazione di tipo ambientale comunque quindi questo va chiarito e credo che ci fosse il tema della sostenibilità è evidente che una parte di città che si fa nuova oggi nel secondo decennio del terzo millennio è evidente che avrà portate al massimo rispetto a quelle che alle conoscenze e tecnologie che abbiamo oggi tutto questo tipo di prestazione diciamo questo vorrei rassicurare tutti che evidentemente è così anche perché la legge ci obbliga ormai a fare a fare questo quindi non si può fare non si può fare altrimenti questo ritorna anche quel ragionamento che abbiamo fatto un'altra volta sui parcheggi no? Che anche il vostro collega giustamente diceva ci sarà una forma di riversibilità perché saranno realizzati in modo tale che ecco questo volevo precisare grazie scusa assolutamente perfetto grazie grazie mille all'intervento sia di Francesco Nicolo che dell'architetto Giulia Leoni andiamo alla prossima domanda che diciamo sono tre domande che però citiamo tutti assieme in modo tale che magari tocchiamo lo stesso tema anche perché forse questo tema è stato già introdotto nelle altre sessioni però magari possiamo riprendere ci lo chiede Paola Minieri del relativo al borgo cioè ci chiede chiede ai progettisti come sarà il borgo Coroglio se c'è un rendering da poterci mostrare chiede anche quando ci saranno gli interventi nel borgo Coroglio e se per l'estate 2022 riuscite a qualificare anche la spiaggia di fronte al borgo e se farete delle modifiche ai palazzi del borgo quindi tutto relativo al borgo una chiaramente almeno di queste dedicate ai progettisti una su magari può anche intervenire Davide Del Cogliano ma forse possiamo io posso iniziare per la parte più progettuale se poi le questioni temporali sull'altra tema magari i nostri colleghi di Invitale sono evidentemente più più precisi e informati beh il tema di Coroglio è come noi l'abbiamo proposto in realtà è importante l'impianto cioè l'impianto urbanistico del borgo di Coroglio è la cosa che ha il suo valore l'edilizia per la maggior parte è stata negli anni diciamo in alcuni casi pesantemente alterata se non sostituita quindi il tema del del borgo Coroglio sarà probabilmente attraverso degli ulteriori approfondimenti entrare dentro il borgo capire quali sono eventualmente e qui diciamo sto citando i criteri che si usano nel recupero dei centri storici in cui il nostro paese ha fatto scuola nel mondo cioè bisogna entrare lì verificare quali sono le presenze edilizie originarie o comunque meno alterate e queste evidentemente devono essere oggetto di un di un'attenzione di tipo conservativo ci sono delle parti che abbiamo visto che sono state completamente alterate se non sostituzioni diciamo nei decenni e di per loro non hanno nessuna qualità anzi oggi contribuiscono forse anche a una disqualità del borgo quindi è un tipo di intervento che necessita di un di un approfondimento e di una misura attenta in questo senso per capire diciamo questi oggetti come vanno come vanno trattati uno diversamente dall'altro però quello che ci interessa e nel nostro disegno è chiaro è l'impianto cioè noi abbiamo riguardato l'impianto confermato quello che guardando delle cartografie antiche si capiva che era l'impianto originario e in questa proposta di concorso che ovviamente ha tutto diciamo lo scarto e il beneficio di inventario che abbiamo sempre detto della proposta di concorso però abbiamo indicato per esempio sono evidenti delle superfetazioni delle aggiunte degli elementi che sono stati sovrapposti a questo tessuto originario che evidentemente vanno rivisti dico così non è detto che debbano essere eliminate completamente però devono essere certamente riviste perché il borgo ha quel senso che diceva Riccardo prima per noi deve essere un luogo trasparente di passaggio nel quale ci saranno delle funzioni anche lì che richiamano il centro storico che sta al mare deve essere tutto aperto tutto fruibile e deve essere di comune godimento diciamo questo è anche nel suo aspetto fisico aggiungo Francesco che è molto importante anche lo spazio pubblico diciamo la cosiddetta sistemazione esterna e questa diciamo connessione che noi andiamo a sviluppare verso la spiaggia e verso questa permeabilità verso anche via Coroglio quindi è sicuramente un intervento di recupero di riqualificazione con piccole addizioni piccole sottrazioni ma che riqualificano anche proprio tutto come dire l'area di sedime in cui insiste questo questo piccolo diciamo comparto che è un po' come dire la storia una testimonianza storica inserita in un master molto più ampio che quindi in questo senso va proprio valorizzata ecco posso aggiungere qualcosa con il riferimento alle date se volete assolutamente sì beh intanto gli interventi saranno scanditi da una serie di operazioni a breve lanceremo la gara che progetterà il waterfront quindi tutta la parte del mare e quindi tutti i servizi che ci saranno a mare a partire dalla parte diciamo che abbiamo visto prima sul sul versante sportivo dove ci sono le attrezzature pubbliche dedicate alla vela più la ricostruzione la riqualificazione del borgo coroglio e andando avanti sino agli edifici che si citavano prima che saranno da cerniera tra la spiaggia e il parco e che saranno i servizi al mare quei quei sassi quei grandi sassi collocati sulla spiaggia oltre a tutti i camminamenti le discenderie che consentono di arrivare alla spiaggia questo progetto unitario che sarà appunto la cui gara per il progetto sarà bandita a partire dal mese di luglio ci consentirà di avere il disegno unitario in termini di studio di fattibilità tecnico-economico a partire da questo studio si assegnerà la progettazione invece della riqualificazione del borgo diciamo le date previste sono che l'approvazione di questo progetto del borgo avverrà intorno ad aprile duemilaventitré quindi stiamo parlando di un tempo ancora abbastanza lontano durante il quale noi intendiamo avviare tutto un colloquio che è già stato preannunciato con i cittadini del borgo e dell'extra borgo che sono destinatari di questo intervento proprio per allineare tutte quelle cose che ad oggi sono soltanto enunciate all'interno del praro ma che costituiscono in qualche modo l'impalcatura delle regole che avevamo previsto e che servivano per dare l'individuazione di che cosa si volesse realizzare cioè prendere questo appunto questo aggregato storico di edifici preservarlo preservarlo però in una logica appunto di miglioramento non solo qualitativo dell'edificato ma anche permeabile erano proprio delle prescrizioni che avevamo dato ai progettisti quelle di consentire i passaggi trasversali e orizzontali verso il mare quindi in qualche modo c'era un già qualche indicazione mi pare che si è stata ricevita a pieno ci sono si sono creati gli spazi all'interno delle piazze e così via gli interventi i lavori con una pianificazione che ad oggi ovviamente non può che essere ancora molto lasca perché è evidente che stiamo andando da qua a più di due anni dovrebbero iniziare prima della fine del ventitré quindi intorno a novembre ventitré dovrebbero iniziare i lavori all'interno del borgo tutto questo sincronizzato naturalmente con la realizzazione degli edifici che saranno destinati a garantire la continuità abitativa di tutti gli abitanti che oggi sono nel borgo e che saranno realizzati sempre nell'area a ridosso dell'area dove alle spalle dell'area per quanto riguarda l'altra domanda sul mare quando sarà in qualche modo riqualificato il mare beh il mare forse ne avete parlato nelle altre puntate è una di quelle di quelle matrici che richiede un intervento molto più complesso perché la beneabilità diventa diciamo è il nostro obiettivo ma diventa complesso ottenerla con con i soli interventi su sedimenti marini sappiate che c'è da mettere in sicurezza tutta una serie di una serie di sedimenti che non potranno essere rimosse e che si devono a profondità molto elevata fino a per capirci profondità meno 50 bisognerà diciamo intervenire con delle situazioni messe in sicurezza che saranno prima sperimentate per verificarne l'efficacia questo è un accordo con gli enti e secondo quanto c'è stato proprio indicato dagli enti quindi c'è un lavoro piuttosto complesso per quanto riguarda gli arenigli e chiudo il progetto che ne bonifica tutta la fascia nord e sud è previsto che sia redatto e quindi vada in conferenza di servizi entro dicembre 22 perfetto grazie grazie mille grazie mille Davide Del Pogliano insomma e anche ai progettisti per queste nutrite risposte per quanto riguarda il borgo andiamo ai prossimi prossimi temi il tema che solleva Anna Savarese è quello riguardante le infrastrutture viarie e quello riguardante chiaramente anche le strade se sono percorse tutte da auto perché chiaramente dalle immagini non si percepisce il livello di traffico pericolare che si genera per la destinazione residenziale e commerciale quindi questa potrebbe essere una domanda che possiamo destinare a Massimiliano Zagni sì buonasera a tutti come già anticipato nei precedenti incontri la parte diciamo trasportistica è stata studiata approfonditamente nella nella immagine che abbiamo visto poco fa non sono riportato il traffico ma sicuramente ci sarà nello studio abbiamo dato una forte prevalenza al TPL su ferro o su gomma per cercare di creare un'accessibilità più sostenibile possibile all'area traffico veicolare sarà comunque diciamo necessario per alcune destinazioni d'uso quello che stiamo cercando di fare è di creare le predisposizioni affinché questo traffico veicolare possa avvenire con modalità più sostenibile come ad esempio l'elettrico o in futuro anche altre soluzioni che eventualmente si affermeranno a livello tecnologico su scala internazionale e nazionale mi riferisco all'idrogeno in particolare quindi diciamo l'attenzione è ovviamente orientata verso una mobilità più possibile sostenibile e che possa dare un minore impatto ambientale sull'area ma anche su tutto il tragetto per arrivare all'area di Bagnoli non dimentichiamoci che le emissioni CO2 sono non solo quelle che insistono sull'area ma anche tutte quelle che vengono generate per regarsi verso l'area posso aggiungere una cosa grazie Massimiliano sempre ricordiamoci l'impianto che ha questo sistema di mobilità di Bagnoli per cui è vero che ci sono delle strade però sono anche delle strade oserei dire a quildesac cioè sono delle strade che hanno delle strade nuove del progetto sono delle strade che hanno una destinazione non sono dei percorsi che possono essere utilizzati per attraversamento quindi questo fa una differenza rispetto al timore che una parte di città venga attraversata queste strade stanno a perimetro una si ferma sostanzialmente sulla spiaggia all'attacco del pontile e l'altra arriva diciamo all'attacco di Nisida poi sì si può essere pure qualcuno che fa i tornanti per salire sulle pendici di Posillipo però non sono nel modello di mobilità urbana o metropolitana napoletana dei tracciati che chiameranno flussi di attraversamento quindi questo deve essere anche chiaro per cui questo tipo diciamo di rischio non c'è peraltro il sistema trasportistico ottimale prevede anche questo eventuale tunnel che dovrebbe scaricare i flussi da via Diocleziano giusto in tangenziale quindi in realtà c'è anche un pensiero di alleggerimento a monte dei flussi che potrebbero interessare l'area quindi finché ci avremo delle scatolette che usiamo per essere trasportati ci saranno poi saranno sempre meno diciamo fastidiose però una quota ci sarà sempre credo che la metropolitana cambierà la faccia di questa questione evidentemente quando arriverà grazie 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 mille tra l'altro le risposte sono state abbastanza celeri e teniamoci su questa linea e chiedo a tutti i relatori perché ci sono tantissime domande chiaramente anche l'ultimo appuntamento è uno dei temi più importanti continuiamo sempre con diciamo questo tema relativo ai percorsi perché Anna Savarese ci chiede se c'è un percorso che ricordi la cultura operaia è l'impegno di tanti lavoratori che hanno lottato per il lavoro e che sono poi anche morti quindi chiede se c'è un percorso dedicato per la cultura operaia questa è una domanda un po' libera non so se c'è qualcuno che può rispondere tra progettisti posso dire qualcosa posso aggiungere anche io nel senso che qua tutto parla della cultura operaia del luogo delle tracce del passato che si miscano con una visione del contemporaneo e quindi diciamo la memoria per noi non è una cosa da evocare o da monumentalizzare ma in qualche modo un'esperienza da ricordare e quindi diciamo potrà esserci nelle fasi successive la valorizzazione di uno più percorsi e quindi diciamo siamo anche ben predisposti a recepire questi spunti di tematizzazione dei spazi delle aree però di fatto al momento diciamo il palinsesto che abbiamo è stato ritirato fuori e reso contemporaneo quindi diciamo la memoria del luogo c'è se posso aggiungere a quello che diceva Riccardo in realtà è una delle matrici del del parco la storia operaia la storia industriale del del luogo parlavamo dall'altra volta del per esempio del discorso paesaggio sonoro e parlavamo della musica di Bagnoli pensando a quello che è stato prodotto con le lotte operaie con un certo tipo di cultura che insomma permerea il luogo in maniera più complessiva non semplicemente con un appunto con un con un percorso o con un monumento posso aggiungere qualcosa su questo tema prego allora intanto il parco diciamo è nostra intenzione anche in accordo con il comune di dedicarlo sapete che i parchi napoletani ma in generale i parchi in Italia hanno sono intitolati a qualcosa e sarà dedicato al lavoro e all'acciaio per ricordare sostanzialmente che c'è un come dire una memoria storica che riguarda sia la produzione dell'acciaio che passata da questa città ed era sostanzialmente la città che produceva più acciaio in Europa quando questa fabbrica si insediò e sicuramente è stato un luogo i napoletani che lo sanno bene che ha dato molto lavoro alle famiglie e ha secondo me lasciato un valore che non è trascurabile e cioè da quelle parti è chiaro che il diciamo il benessere o comunque diciamo il lavoro serve per campare per capirci e non si cercano scorciatoie in altre città anche di Europa magari questa cosa che apparentemente sembra banale che il lavoro il lavoro crea in qualche modo valore non è detto che sia così scontata quanto alla memoria di quello che è accaduto lì e degli operai che hanno diciamo sicuramente con grande sacrificio soprattutto nelle prime fasi della fabbrica fatto funzionare tutto quell'accrocco di impianti noi vorremmo recuperare le testimonianze della fabbrica all'interno di una di quelle archeologie industriali ovviamente per ora ci sono soltanto delle idee dei progetti che come ho precisato anche prima non possono essere sviluppati in maniera unilaterale da questo punto di vista noi ci attendiamo molto dalle proposte ci attendiamo molto dal territorio il territorio di Bagnoli è molto denso di come dire di soggetti che hanno creatività proposte hanno sicuramente la voglia di affermare e di rivendicare che quel territorio è loro e in questo senso attendiamo che ci possano essere ci attendiamo e ci possano arrivare delle proposte di gestione come è avvenuto anche in passato devo dire poi in malo modo è stato anche per così dire disarcionato cioè c'era a un certo punto dopo la chiusura della fabbrica un infopoint che raccoglieva le testimonianze della fabbrica insieme a tutto quello che anche di tangibile la fabbrica aveva lasciato sia di documenti che di oggetti ed era stato in qualche modo mostrato con le foto con i filmati in questo infopoint poi l'infopoint è stato chiuso noi avremmo intenzione di farlo diventare una cosa un po' più consistente di quello che era l'infopoint anche grazie al recupero di alcuni documenti di alcune foto di alcuni filmati che abbiamo rinvenuto all'interno dell'ex archivio ILVA che è un patrimonio tra l'altro è un archivio tutelato perché dalla sovrintendenza chiaramente raccoglie la storia industriale d'Italia e del mezzogiorno quindi rispetto a questo noi intendiamo fare un grande passo avanti già in relazione a quello che si era fatto che era molto meritevole il cosiddetto infopoint noi vorremmo arrivare quasi a fare un museo di quello che è la produzione di acciaio se possibile in Italia perché poi ci sono ormai pochi posti in cui si produce ma ce ne sono stati tanti in passato e Napoli è sicuramente stata la capitale da questo punto di vista grazie grazie mille agli interventi tra l'altro Davide Teppogliano se può rimanere qui perché così le facciamo un'altra domanda che riguarda il tema del ticketing quindi sempre Anna Savarese ci chiede se ci saranno spiagge libero saranno tutte a pagamento a questo punto aggiungiamo anche se la fruizione del parco è pensata a pagamento allora rispondo subito a questa intanto tutta la spiaggia i due chilometri di spiaggia saranno concepiti come spiaggia pubblica è chiaro che questo pone un grandissimo tema che è quello della sostenibilità che ovviamente si pone per tutto il parco ho condivido molto e apprezzato molto il ragionamento di Rima del fatto che la spiaggia è inevitabilmente un pezzo del parco è un parco che scivola a mare sostanzialmente in continuità sia pure cambiando le funzioni però quindi l'impianto è complessivamente pubblico sia per il parco che per la spiaggia non si pagheranno biglietti l'idea è ovviamente di prevedere dei pagamenti solo per i servizi e qui ancora una volta ci attendiamo delle proposte che possono essere diciamo proposte di servizi pubblici prima sentivo la possibilità di estendere alcune attività che si realizzeranno al chiuso anche all'aperto come i corsi di recitazione piuttosto che che è quello che si andrà a fare all'interno di Porta del Parco se questa proposta che ci è stata fatta verrà verrà valutata favorevolmente ma tutto il tema della musica perché no spazi dedicati alla musica spazi dedicati all'insegnamento della musica o a quant'altro possa essere di interesse diciamo del quartiere per fare queste attività necessariamente c'è bisogno di manutenzione ulteriore probabilmente di attrezzature e così via e l'idea potrebbe essere insomma bisogna capire quanto spinta è la quanto spinto è l'attrezzaggio di queste aree quella di poter dedicare alcuni limitati spazi del parco a queste a queste attività dove magari ci può essere un piccolo ticket che copre le spese necessarie per rendere possibili quelle attività questo può valere per quelle che ho citato come per altre che verranno fuori dall'interazione che noi vogliamo attivare con questi momenti e che ci attendiamo diciamo che produca proposte significative prima sentivo toccare i temi dell'agricoltura anche su quel tema ovviamente non sono un esperto di queste cose però vedo cosa accade in altri contesti dove si sono realizzate rigenerazioni di questo tipo dove ad esempio nei parchi si possono costruire delle piccole isole dell'enclado dove vengono coltivati fiori piante fiori che si possono recidere e portare via pagando un piccolo ticket per portarsi via i fiori piuttosto che la frutta come abbiamo detto prima o quelle coltivazioni che possono essere realizzate oggi anche in maniera verticale per poter essere più intensivi immaginiamo che tutto ciò che si può fare liberamente che non ha entrare nel parco o entrare sulla spiaggia è libero se invece si vuole accedere a dei servizi ragionevolmente ci sarà un profilo di ticketing molto contenuto che serve a garantire la sostenibilità e la continuità di questi servizi perfetto grazie grazie mille nuovamente insomma la risposta molto esaustiva andiamo sul prossimo tema quindi ringraziamo un'altra volta Davide Del Cogliano e andiamo invece su un altro tema che riguarda quello della torre diciamo così della torre verde accanto all'acciaieria nel senso che l'architetto Enzo Russo chiede quali funzioni sono previste nella torre mentre Lorenzo Del Parato ci chiede la torre verde accanto all'acciaieria avrà una qualche funzionalità o sarà solamente di carattere estetico possiamo indirizzare queste due domande ai progettisti chi si lancia dei progettisti? vedo nessuno tutti stanchi? no vai Federico no no direi la torre come dire ha un ospita un mix funzionale che va dalla residenza al direzionale e al commerciale ai piani più bassi in relazione anche con la parte del sistema inclinato che si distende parallelamente alla fabbrica e dove abbiamo immaginato un importante mercato coperto perché ritornando diciamo a un po' al tema di prima Bagnoli rimane anche un luogo di lavoro tutto sommato ma con perché lavorare in agricoltura significa comunque lavorare e lavorare sodo ma certamente non inquinare quindi in qualche modo queste tornando alla torre vuole essere un inserimento contemporaneo che si contrappone che si affianca che si armonizza alla presenza della grande fabbrica ma allo stesso tempo che come dire presenta quello che è questo cambio di paradigma dell'intera Bagnoli che da luogo inquinato e che ospita lavoro che inquina si trasforma in un meraviglioso luogo di natura ma allo stesso tempo di natura produttiva di natura in cui questo rapporto tra uomo e natura è valorizzato al massimo sì ci sono altri aspetti che il nostro intervento della torre ad esempio il fatto che la cubatura usata per la torre ci permette un alleggerimento della cubatura del carico insediamento circostante e soprattutto la possibilità dall'interno del parco perché poi di fatto la torre è alla soglia di questo del parco di vedere il parco dall'alto nel senso che in qualche modo abbiamo la possibilità salendo appunto all'interno di questo edificio di avere un punto di vista eccezionale perché è una vista come dire si ha una visione sul paesaggio sul parco sulla spiaggia sulle acciaglierie da quel punto lì che è una cosa unica in maniera tale che per vedere il parco dall'alto si è sicuramente interessante andare così sul parco eccetera ma avere la possibilità magari con un bar un ristorante una situazione in vetta di questo edificio di cogliere questo nuovo paesaggio e al contempo appunto valorizzare le visuali diciamo è sicuramente un dispositivo un landmark che per un landmark non solo dal paesaggio verso l'edificio ma anche dall'edificio verso il paesaggio e dato che insomma c'è questo tema sulla torre su sull'endmark come appunto come strumento magari rispondiamo anche alla domanda dell'architetto Giuseppe D'Angelo che si complimenta innanzitutto i progettisti e chiede leggo un po' testualmente per non inciampare in un collage pop di tipologie edilizie diverse tra loro come ad esempio edifici di cristallo ma anche i villaggi marocchini monopiano c'è bisogno davvero di altri landmark come la torre vicino alla celeria o gli edifici orizzontali lungo l'asse borbonico beh lì è una scelta è una scelta progettuale nostra di declinazione delle cubature richieste potevamo in qualche modo ripetere in maniera seriale un medesimo blocco abitativo però avremmo avuto sicuramente un consumo di suolo e un'impronta terra è un impatto volumetrico sicuramente più invasivo e in questo modo con questi due elementi uno verticale da un lato e l'altro orizzontale sdraiato dall'altro dall'altro diciamo siamo riusciti ad avere un buon bilanciamento anche perché il contesto e la scala dell'intervento è talmente dilatato che ci permette anche un dialogo tra questi due oggetti in queste immagini un po' li vediamo l'orizzontale che lavora alla scala del paesaggio e quello verticale che anche lui diciamo entra in questo dualismo quindi è stata fondata da una necessità di valorizzare i punti di vista di dare una risposta ai numeri e di dare un'articolazione volumetrica che valorizzi di fatto il contesto poi circa anche l'eterogenità delle logiche insediative e tipologiche è forse la nostra forza nel senso che ogni ogni ambito ogni situazione dialoga con la parte di città che ha alle sue spalle in qualche modo cerca una relazione con l'esistente anche il villaggio monopiano in qualche modo si relaziona con le raduole è una raduola in qualche modo architettonicizzata e abitata in cui il pieno e vuoto rientra in un dialogo tra lo spazio pubblico lo spazio privato e l'ambito domestico in maniera molto stringente e mediterraneo l'eterogenità per noi è un valore se posso poi anche un po' scivolare nel pop è molto importante oltre ad essere una scelta consapevole è fondamentale per rendere questi alieni un pochino più amici queste questi come dire queste presenze che sono testimonianza ma devono essere testimonianza che come dire che positiva e quindi come dire questa questa varietà e questa come dire interpretazione se vogliamo apparentemente così diversa realizza una composizione invece secondo noi più armoniosa in questo senso è chiaro che poi il lavoro di sviluppo successivo sarà tale da migliorare da aggiustare e da uniformare un po' il tutto ma la sfida più difficile è appunto far sì che queste masse d'acciaio enormi non sembrino diciamo così ancora il risultato di un'invasione barbarica tra virgolette quindi si presentino come invece il parte di un disegno accogliente amichevole diciamo che dal virgiliano potrà essere apprezzato così come fruito a livello diciamo terra del parco viva il pop grazie grazie mille per le precisazioni insomma una domanda abbastanza rilevante come conteso generale anche data data appunto la il tema che non era solo legata appunto alla torre allora io sollecito cosa succede sollecito comunque i progettisti e comunque i relatori di andare in maniera più spedita possibile perché chiaramente sono già le 17.55 in realtà abbiamo tanti temi capisco che non è assolutamente semplice però io risollevo appunto il tema di andare più spediti non so chi è ma c'è qualcuno con il microfono acceso per favore regia allora prossima domanda a Massimiliano Zagni la domanda è mi chiedevo se fosse stata effettuata sul parco urbano e nuovo edificato una valutazione di sostenibilità energetica e se sì quali sono state le soluzioni impiantistiche considerate sì buonasera noi abbiamo fatto e stiamo continuando a svolgere in collaborazione con l'Università Partenope di Napoli un'analisi di multiscenario energetico proprio per garantire quelle condizioni di sostenibilità ambientale ma anche energetica del nuovo edificato ma anche di tutto il parco urbano oggi e nelle altre sessioni l'abbiamo tracciato già in vari modi per quanto riguarda l'edificato è molto importante rispetto di alcune norme che sono state recepite dalle direttive europee trasposte a livello nazionale e che prevenono sostanzialmente il rispetto di alcuni parametri in primis i famosi o almeno così sono gli Enzeb cioè Nearly Zero Energy Building che prevenono quindi di curare in maniera primaria l'involcro di ogni nuovo edificato e entro il 2020 devono essere tutti così diciamo parametrati i nuovi edifici ma anche poi la produzione di energie da fonti rinnovabili sia per l'acqua calda sanitaria per il riscaldamento per la produzione di energia elettrica che devono superare delle soli minime del 50% in alcuni casi questa configurazione comporta ovviamente l'adozione di tecnologie differenti abbiamo fatto un approccio abbastanza molto laico anzi per cercare di trovare una soluzione che possa essere compatibile sia in termini di sostenibilità ambientale energetica che dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico tra queste cito anche la geotermia bassa entalpia unita al fotovoltaico al solare termico piuttosto che altre soluzioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento da questa analisi molti scenario che condivideremo con i progettisti e con tutti gli interlocutori del progetto Bagnoli potremo trarre delle conclusioni importanti per come definire il nuovo edificato che sicuramente come già stato accennato deve porre l'asticella molto in alto per poter ottenere il risultato di primo piano di successo a livello nazionale e internazionale grazie grazie mille nuovamente Massimiliano Zagni mentre una prossima domanda è per i progettisti ce la chiede l'architetto Giuseppe D'Angelo che fa riferimento al mare al rapporto col mare oltre che al rapporto con la spiaggia visto che manca un porto e manca anche una darsena e anche una funzione questa è la sua percezione è così? cioè manca questo rapporto con il mare? come qualcuno ha detto prima forse Francesco Nigro diciamo il mare è il quarto parco il quarto lato del nostro parco quindi in qualche modo il rapporto con il mare è stata una scelta chiave della nostra declinazione progettuale il fatto di stabilire una continuità l'hanno detto diversi anche anche nei vari interventi il nostro parco scivola verso l'acqua cioè non c'è non c'è nessun salto di quota non c'è nessun limite non c'è nessuna barriera in qualche modo ma sono due entità l'ambiente marino e l'ambiente paesagistico che dialogano tra loro in maniera molto stringente questo diciamo almeno per quello che era richiesto dal sedime dell'ambito di concorso ovviamente quindi nel senso abbiamo fatto altro che declinare e risolvere per quanto c'è stato possibile questa continuità se posso aggiungere ne abbiamo già parlato forse le volte scorse in realtà la spiaggia il mare innanzitutto è un rapporto recuperato perché in questo momento è completamente negato è negato dalla colmata è negato dalla situazione in generale quindi uno credo che uno degli scopi importanti del progetto e di tutta l'operazione è il recupero del rapporto col mare ma non è semplicemente il mare per la balneazione prima di arrivare poi all'uso del mare del mare stesso e come dire agli altri problemi relativi al porto che non fa parte insomma della progettazione anche proprio come ambito ma soprattutto direi che la spiaggia con il sistema dunale il sistema dei laghetti retrodunali in continuità con le reti e le maglie ecologiche che si vanno a riconnettere all'ambiente sono come dire un recupero nel senso più ampio del rapporto con il mare cioè non solamente l'uso del mare a livello antropico un uso regolato eccetera ma un riportare la natura al mare e prendere dal mare grazie grazie mille sia Riccardo che Enrico andiamo sulla prossima domanda che è sempre il tema è simile però visto da un altro punto di vista perché riguarda sempre chiarimenti in merito alla spiaggia ci chiede Lorenzo chiede magari all'archietto Giulia Leone e Massimiliano Zagni richiede alcuni chiarimenti in merito alla spiaggia viene confermata la destinazione d'uso pubblica e quale percentuale di concessione private si immagina inoltre in fase di progettazione sono stati realizzati degli studi sulle correnti marine per prevedere il livello di erosione del futuro litorale ci chiede e che cosa sono più precisamente quelle cupole che ci avete mostrato in ultima la metto sempre qui se in fase di progettazione è stato previsto un intervento di riqualificazione per l'area compresa tra via Nisi della spiaggia di Calabatessa che è sottostante il costone di Posillipo se ricordate le domande le ripeto sì allora nell'ordine la prima la prima è viene confermata la destinazione d'uso pubblico e quale percentuale di concessione private la spiaggia è pubblica e l'abbiamo detto proprio poco fa quindi secondo me su questo discorso ha già risposto il dottor Del Cogliano precedentemente ok poi correnti marini esatto correnti sì vai Massi sulle correnti marine sono stati fatti gli studi meteomarini ovviamente che hanno determinato alcune risultanze stiamo adottando la linea di costa che garantirà una maggiore sostenibilità nel tempo che vuol dire che a seconda dei fattori di erosione sceglieremo una linea di costa che garantirà diciamo una resilienza dell'area anche a fronte ai cambiamenti climatici inoltre abbiamo studiato sempre col Comune di Napoli e la Regione Campania anche delle soluzioni di ripascimento utilizzando delle vasche di sedimentazione sulle colline di Camaldoli che aiuteranno a fare ripascimento della spiaggia qualora ce ne fosse bisogno in futuro la linea di costa attualmente presente nel Praro e che è andata diciamo come elemento di concorso naturalmente è una linea di costa tra virgolette puramente fittizia che indica la continuità di una spiaggia dall'arenile nord all'arenile sud ma che naturalmente sarà oggetto di approfondimento successivo ecco perché anche il progetto del Waterfront dovrà seguire diciamo un approfondimento progettuale un po' diverso che per racconto anche degli approfondimenti della nuova linea di costa in funzione anche della sostenibilità di manutenzione diciamo negli anni a seguire per quanto riguarda un interesse sulla parte sotto il costone è fuori area SIN quindi noi non abbiamo potuto diciamo prevedere interventi in quell'area ok ok grazie mille all'architetto Giulio Leoni per favore Massimiliano Zegni puoi rimanere qui perché c'è una domanda da parte di Enzo Conte che rappresenta il CONI Comitato Regionale Campania e chiede se è previsto uno spazio per gli sport acquatici per esempio il canottaggio la canoa sì prima è stato accennato più volte in realtà quello che abbiamo previsto sul Waterfront è il centro di preparazione olimpico per sport acquatici quindi non un semplice base nautica non un semplice centro velico ma qualcosa di più l'abbiamo accennato anche la volta scorsa molto sinteticamente è una funzione che aggrega le attività delle squadre olimpiche quindi vela windsurf canoca notaggio wakeboard e via discorrendo con l'idea di fare da volano per attrarre non solo attività agonistiche sportive di livello ma anche competizioni e anche nazionali straniere che possono venire appunto diciamo nell'area dei bagnoli tutto l'anno perché l'area si presenta molto bene dal punto di vista del training e di tutti la parte diciamo di allenamento e anche per fare regare competizioni quindi diciamo l'idea è di creare qualcosa di più di una semplice base nautica ma di creare assolutamente un volano dal punto di vista dell'attrazione di agonisti ad alto livello questo garantirà a sua volta traino verso invece l'inserimento di nuovi giovani nuove leve verso i sport acquatici di cui Napoli diciamo vanta comunque una fortissima tradizione forse vale la pena di sottolineare un aspetto che questo diciamo questo insediamento di cui stava parlando poco fa Massimiliano è un insediamento che sarà anche un'attrezzatura pubblica cioè a quest'area sarà abbinata anche un'area di inclusione sociale di tutti i ragazzi giovani e i meno giovani del quartiere che vogliano avvicinarsi a quelle discipline sportive con quel profilo agonistico che citava prima Massimiliano se 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 ci saranno le condizioni oppure a livello dilettantistico anche con altri tipi di sport di terra per cui ci sarà uno spazio anche nel parco che sarà contiguo a tutta quella quell'area che consentirà di fare quindi attività sociali per il quartiere perfetto collegato assettamente a questo c'è l'ulteriore domanda di Enzo Conte che chiede e quindi la rivoluzione di Presidente da Davide Del Cogliano che può rimanere qui per la gestione del parco dello sport sarà previsto un bando il conico proporsi per la gestione per il parco dello sport abbiamo ricevuto sinora alcune manifestazioni di interesse diciamo i vincoli sono notevolissimi come probabilmente è noto perché il parco dello sport è stato realizzato con dei fondi dell'Unione Europea e la destinazione è ad attrezzatura pubblica quindi è destinata ad avere diciamo quella funzione i finanziamenti europei dall'altra parte pongono vincoli rispetto a quello che è stato costruito e la situazione quindi non modificabile diciamo in maniera significativa altrimenti si perde la possibilità di rendicontare all'Unione Europea quelle spese e dall'altra invece nel momento in cui noi abbiamo ricevuto il possesso di quell'area e cioè luglio del 2019 abbiamo rilevato che c'era stata una vandalizzazione significativa talmente significativa da richiedere investimenti dell'ordine di qualche decina di milioni ancora per renderlo funzionale dunque allo Stato il Parco dello Sport per quelle che sono state sinora le nostre iniziative per individuare un gestore diciamo essenzialmente legate ad iniziative spontanee di manifestazione spontanee che devo dire abbiamo avuto per diverse attività nell'area incluso il Parco dello Sport non hanno trovato un gestore che avesse per così dire una corrispondenza una coerenza che proponesse meglio ancora un'attività che avesse coerenza con quelli che erano i vincoli che vi ho appena elencato l'unica sulla quale stiamo lavorando è arrivata dall'Università Federico II che ha manifestato l'interesse ad utilizzare quell'area per diciamo gli sportivi studenti universitari e non solo ovviamente anche per le funzioni per cui è nata cioè per aprirla al pubblico e quindi ai cittadini nel quartiere per fare gli sport per cui è nata si farebbero carico di ciò che è necessario per ripristinare l'area ed eventualmente per implementare ulteriori sport quindi allo Stato è sicuramente la proposta più interessante che abbiamo ricevuto altre iniziative devo dire non sono state se compatibili compresa qualcuna che arrivava dal CONI forse Massimiliano ci potrà come dire ripercorrere qualcosa che abbiamo fatto nel corso degli anni passati proprio con l'aiuto del CONI molto sinteticamente noi abbiamo fatto diciamo abbiamo collaborato con il CONI che è adesso sport e salute per identificare quelle che erano le possibili diciamo rifunzionalizzazioni dell'area e sono emersi diversi aspetti critici innanzitutto gli impianti del parco dello sport non erano omologabili ai fini per il CONI per fare competizioni di nessun tipo a nessun livello ma anche il tipo di decinepline sportive che erano state realizzate diciamo ma si conciliano con alcuni aspetti diciamo di come si è evoluto lo sport in questo periodo quindi hanno evidenziato come invece a molti altri sport che sono sia di base ma anche diciamo sport di nuova generazione e fanno da trattori su questa su quest'area qua potrebbero fare da trattori su quest'area qua e mi riferisco in particolare a attività all'area aperta come la parte di bicicletta ciclocross parkour e via discorrendo cioè sport di nuovo dinamismo che si vanno a sovrapporre anche a quelli diciamo più tradizionali chiedo scusa aggiungo solo una cosa perché non vorrei dare la sensazione di rilevaso alla domanda originaria ehm del dello spettatore eh il codice degli appalti al momento dà la possibilità di ehm a qualsiasi cittadino a qualsiasi organismo a qualsiasi entità di effettuare proposte per poter fare eh diciamo la gestione di spazi pubblici eh che quindi saranno destinati successivamente alla terza delle repubbliche proponendo un piano di investimenti e ovviamente un piano di gestione che deve essere rappresentato attraverso un piano economico finanziario che dia conto di quanto questa gestione sia sostenibile degli investimenti che che si vogliono effettuare eh eccetera cioè eh al momento ma da sempre non è preclusa affatto questa possibilità perfetto grazie mille Davide Elcogliano Massigliano Zagni abbiamo toccato anche quest'altro tema sportivo andiamo invece su un altro tema mancano dieci domande quindi facciamo questo ultimo sprint allora l'architetto Giulio Leoni indirizziamo questa domanda questa doppia domanda dall'arte dell'architetto Giuseppe D'Angelo sul tema circolo Ilva quindi ci chiede innanzitutto dove si intende rilocalizzare il circolo Ilva se lo si rimuove da dove è attualmente e perché si cita il circolo velico che immagino sia un portatore di interesse mentre il circolo Ilva non è nemmeno citato allora diciamo che ci sono state delle interlocuzioni nel corso degli anni non indifferenti con il circolo Ilva che diciamo ha manifestato tutte le sue necessità il discorso anche di valutare la collocazione di un'attrezzatura pubblica all'interno dell'area tematica 1 e 2 dove andrà assolutamente collocato anche il centro di preparazione olimpica identifica sicuramente uno spazio con delle destinazioni abbastanza coerenti con quello che è la destinazione attuale del circolo Ilva quindi a questo punto Davide possiamo anche identificare un'area che possa raccogliere in sé in maniera unitaria tutto quello che è sport tutto quello che è sport di quartiere anche con un particolare interesse verso diciamo l'utilizzo pubblico l'uso pubblico degli spazi che noi andiamo a identificare io volevo aggiungere sì i colloqui con l'ex Circo Ilva ci sono da sempre insomma noi siamo sempre stati a disposizione e loro lo sanno anzi voglio aggiungere così diciamo chiariamo anche questo aspetto molto telegraficamente che il circolo Ilva è oggetto dell'accordo interistituzionale e tra le cose che citano diciamo le schede dell'accordo allegato all'accordo interistituzionale del luglio duemiladiciassette nel quale vi ricordo governo regione campania e comuni di Napoli stabilirono cosa si faceva a Bagnoli e rispetto al quale la cabina di regia ha chiesto a noi come soggetto attuatore cioè ad In Vitalia di redigere il Pararo e cioè è scritto in quelle schede che il circolo Ilva dovrà essere rilocalizzato in altra area per far luogo ovviamente allo spazio per il waterfront e che tutte le funzioni storiche e sociali che il circolo Ilva interpreta devono essere mantenute noi in questa direzione anche a seguito di sollecitazioni da parte della cabina di regia anche recenti come diceva prima Giulia ci siamo confrontati ripetutamente l'architetto D'Angelo probabilmente lo ricorderà con i rappresentanti del circolo Ilva e gli amici perché li considero tali del circolo Ilva sanno bene che dal nostro punto di vista gli spazi che tutti gli spazi che hanno le caratteristiche di attenzione pubblica non solo quello che citavamo poco fa per la vela per gli esporti acquatici che è forse quello più elettivo per le cose che loro fanno e quindi stiamo immaginando che anche lì potrebbe essere collocato il circolo Ilva ma anche altre come le archeologie industriali possono essere prese in gestione da loro con delle proposte ovviamente concrete e diciamo che abbiano le caratteristiche che dicevamo prima per poter gestire ad esempio tutta la parte della storia dell'area del lavoro della storia dell'acciaio di cui loro sono molto portatori anche perché hanno ancora all'interno molti soci che sono rappresentanti degli ex operai dell'Ilva Perfetto grazie mille allora andiamo sempre su un altro tema il prossimo tema che riguarda chiaramente un aspetto più pratico ce lo sottopone Anna Savarese Archietto Giulia Leone magari ci può rispondere Anna Savarese chiede quindi se noi consegniamo il 30 giugno e già parte la gara per il waterfront a luglio in che modo si terrà conto dell'osservazione suggerimenti che appunto che arrivano entro il 30 giugno allora innanzitutto noi se andiamo a gara con il waterfront andiamo con un documento di programmazione dell'intervento che cosa vuol dire che a base del progetto ci sarà il planivolumetrico che dà un'idea di quello che dovrà essere realizzato nel waterfront dopodiché ci sarà sicuramente una visione generale di tutto il waterfront e un approfondimento sicuramente per Lotti di tutto quello che è del waterfront a partire dall'arenile nord fino ad arrivare all'arenile sud quindi che comprende sia la parte di mitigato del salto di quota sia Borgo Coroglio sia l'attrezzatura pubblica o il certo di preparazione olimpica che abbiamo detto finora a base di gara c'è esclusivamente quello l'approfondimento progettuale che si inizierà a seguito dell'aggiudicazione della gara sicuramente nel frattempo ci permetterà di individuare noi come in vitalia i criteri principali della progettazione a seguire e che saranno punto di partenza per i progettisti che comunque sono supervisionati da noi secondo delle linee fondamentali che sono poi alla base della nostra struttura e della nostra proposta dell'intero grado quindi non c'è problema che arrivano l'importante è che arrivino esatto scusa una diciamo in realtà le proposte tanto per rispondere ad Anna le proposte che dovranno pervenire dovranno riguardare i contenuti cioè quello che ci attendiamo che arrivi diciamo con molta energia da parte di chi ci sta ascoltando sono le proposte sui contenuti i contenitori in qualche modo ci hanno pensato gli architetti a definirli adesso la sfida vera è metterci dentro delle cose delle funzioni sostanzialmente grazie grazie mille la doppia precisazione siccome manca pochissime domande andiamo direttamente se è d'accordo con la domanda la botta e risposta diciamo con chi interpelliamo quindi prossime domande anzi prossime due magari le chiediamo l'intervento di Massimiliano Zagni e poi le prossime appunto a poco a poco solamente una persona va a rispondere così ci abbiamo verso la conclusione la prossima domanda è si è detto che le progettazioni saranno fatte di concerto con i gestori come saranno scelti per ogni singolo intervento soprattutto quando quindi Massimiliano Zagni forse può essere interpellato su questo tema no allora il discorso del gestore diciamo noi metteremo a gara le fondiarie quindi si metterà a gara una destinazione d'uso con una cubatura con quello che in realtà il plan involumetrico identificherà le due macro distinzioni oggi sono residenze e produzione beni e servizi la gara verrà strutturata in funzione di quello che deve essere allocato nella fondiaria chi si presenterà per partecipare alla gara dovrà proporre l'oggetto e la gestione dell'oggetto noi vogliamo proprio evitare che si prosegua con progettazioni non calate sulla reale possibilità di gestione del manufatto lavorare in maniera unitaria ed omogenea ci permette di fare cose già allineate con quello che è la proposta successiva di gestione e questo è possibile solo con diciamo una progettazione una realizzazione sotto un'unica testa e sicuramente individua la soluzione migliore per noi perché sappiamo che progettare senza un gestore a fianco implica sicuramente una non corretta progettazione quindi noi parliamo solo di gare pubbliche comunque d'accordo d'accordo allora rivolgiamo a Massimo Nazioni la prossima domanda se è corretto magari intervenire sempre se pensate che sia meglio ad esempio l'architetto Giuliani che possa intervenire su questa domanda qual è la ripartizione modale tra i vari sistemi di trasporto rispetto ai 9 milioni di potenziali visitatori sì molto sinteticamente noi nello studio trasportista che abbiamo citato più volte ha fatto un'analisi di diversi scenari siamo partiti da uno scenario di riferimento base che è quello che prevede che su Bagnoli cosa succederebbe su Bagnoli con nuovi attrattori se non cambiassimo nulla di quello che è l'attuale sistema di infrastrutture di trasporti abbiamo poi introdotto delle varianti e abbiamo scelto quello ottimale in questo ottimale si ha un miglioramento sostanziale del trasporto pubblico locale perché dallo scenario di riferimento cioè quello che c'è oggi si passa dal 10,9% fino al 26 quasi al 30% di trasporto pubblico locale al contrario il trasporto su gomma passa dall'89% al 73% di nuovo sul trasporto su gomma ci sarà da fare poi una differenziazione legata all'introduzione di alimentazione elettrica o idrogeno piuttosto che all'utilizzo sempre più pervasivo di carpooling e car sharing quindi diciamo su queste due leve per quanto riguarda il trasporto privato si giocherà buona parte anche della sostenibilità futura dell'area oltre che sul trasporto pubblico locale perfetto grazie mille Basiliano Zagni andiamo sulla prossima ci sono notizie sul cosa da fare sul suolo occupato adesso dal Cementir magari Davide Del Cogliano magari può rispondere a questa domanda eccomi ripeto la domanda sì magari perché non ho capito cioè è chiaro che riguarda Cementir ma non è stata formulata benissimo però la leggo testualmente se ci sono notizie sul cose da fare sul suolo occupato al momento dal Cementir vabbè cose da fare lì si farà un parco è molto chiaro anche dell'illustrazione diciamo quindi sparirà quello che oggi è l'ex edificio della Cementir e tutto diventerà parco come realizzare questo che non è oggetto della domanda ma approfitto per dirlo il commissario ha già intraveso numerose iniziative uno per intimare alla Cementir la bonifica iniziativa che tra l'altro si è conclusa con la condanna della Cementir alla bonifica e in qualche modo si è valutata la possibilità di intraprendere una strada transattiva per a divenire senza proseguire con lo scontro tra virgolette giudiziario ad ottenere l'area da Cementir in maniera conveniente per lo Stato e per Invitalia per poter proseguire più rapidamente possibile la realizzazione del parco ovviamente se ciò non fosse possibile nel senso che non si trovasse un accordo abbiamo numerose strade da seguire ultima delle quali è naturalmente l'esproprio per pubblico utilità tenuto conto che lì ci si fa un parco pubblico grazie grazie mille Davide Del Cogliano ultime tre domande queste progettisti se sono previste strutture destinate a funzioni istituzionali spero che mi sentiate perché ho dovuto cambiare la connessione si sente sì ci sentiamo ci sentiamo c'è stato un problema elettrico nell'edificio dove sono non so esattamente cosa vuol dire servizi istituzionali però abbiamo parlato diciamo di di forme di servizi pubblici in alcuni dei contenitori cioè bisogna distinguere se vedo le domande sono tanti sono sempre sullo stesso argomento cioè tra servizio e la funzione pubblica di interesse pubblico e chi la gestisce il il dottor D'Alcogliano ha detto chiarissimo qual è la modalità prevista dall'alcolice degli appalti italiani sulla gestione di questo tipo di servizi quindi la il diciamo il tema come ha già sollecitato lui è capire quali possono essere quali la comunità locale ritiene siano siano necessari noi da questo punto di vista salvo le le questioni che abbiamo citato ma un servizio istituzionale potrebbe essere anche una scuola di musica o di teatro o o un ambulatorio adesso non lo so diciamo questo non siamo in grado di rispondere in modo così dettagliatamente ma per questo stiamo facendo questi incontri perché probabilmente abbiamo bisogno poi di essendo il processo così lungo negli anni è chiaro che bisogna fissare le destinazioni d'uso nel momento storico in cui è chiaro che si possono attuare quindi diciamo irrigidire questo tipo di pianificazione di programmazione con delle destinazioni d'uso così fisse quando poi concretamente diciamo le cose prendono corpo nel tempo è chiaro che non diciamo non possiamo farlo ed è per questo che le norme del Praru sono così apparentemente tasche ma è una flessibilità funzionale a questo tipo di obiettivo su questo ripeto abbiamo anche fin troppi contenitori da riempire poi se serve un centro diciamo un poliambulatorio io penso che non ci sia non ci sia nulla che osti a ospitarlo in una in una delle strutture nuove di quelle esistenti diciamo per fare un esempio se si intende questo tipo di servizio come servizio istituzionale perfetto grazie mille Francesco Nigro le ultime due domande Livia Geusa chiede magari a Davide Del Cogliano con riferimento al parco dello sport è prevista la sola riqualificazione delle attività attualmente presenti o anche un'integrazione con nuove aree e attività è previsto un idea progettuale per quest'area e quali sono le tempistiche allora rispondo per lo stato delle cose che ho riferito prima cioè al momento c'è un'interazione con l'Università Federico II che ha presentato una manifestazione di interesse qualche tempo fa e lungo questo percorso stiamo muovendo diciamo stiamo muovendoci per fissare un accordo tendenzialmente le attività saranno aggiornate nel senso che mantenendo l'impianto che non è come dicevo prima modificabile in maniera significativa altrimenti si perde la possibilità di rendicontare i fondi europei tuttavia all'interno dei crateri è possibile modificare il tipo di sport che ci si fa tutto sommato è una cosa abbastanza è una modifica lieve immagino che l'Università voglia aggiungere delle altre attività sportive questo ben venga perché significa incrementare le possibilità di fare sport ovviamente c'è un livello progettuale che sarà realizzato se si chiuderà questo accordo che ovviamente come dicevo come riferivo prima non è ancora chiuso quindi si realizzerà un'attività progettuale che subirà tutte le fasi di approvazione e dopodiché sarà realizzato l'intervento che porta da una situazione che ribadisco oggi non ci sono sport da poter fare nel parco dello sport perché è tutto vandalizzato da fuori sembra diciamo che ci siano dei campetti magari a volte ci vanno anche i ragazzini a giocare ma è pericolosissimo ci sono anche dei punti crollati in cui voglio dire non è assolutamente in condizioni funzionali per cui lì è richiesto un intervento significativo molto corposo che richiede prima una progettazione perfetto grazie mille siamo all'ultima domanda chiedo scusa poi il CONI che prima è intervenuto ovviamente torno a dire sempre in base alla norma che veniva citata anche adesso dall'architetto Nigro del coso degli appalti è chiaro che può proporre un intervento sul parco dello sport ovviamente facendo sicario dell'investimento necessario e rispettando quei vincoli che ci sono noi finora non abbiamo visto se non a dichiarazioni di intenti molto come dire roboanti poi non seguite da fatti non abbiamo visto ancora nessuno che sul parco dello sport avendo necessità come dicevo di qualche decina di milioni di investimenti per poterlo mettere in funzione abbia fatto seguire alle dichiarazioni di intenti poi una concreta proposta grazie grazie mille Davide Del Cogliano arriviamo all'ultima domanda volevo scusarmi con San Nino MPA PS San Nino ho fatto le precedenti due domande che non avevo le questioni di velocità e di fretta sollevato appunto che fosse stato per porre quelle domande lì e quindi concludiamo questo Q&A con l'ultima domanda dell'architetto Enzo Russo e WWF che ci chiede quali sono gli edifici destinati alle strutture alberghiere e con questa magari concludiamo con il contributo dei progettisti direi che le strutture alberghiere principali che possiamo immaginare sia nel miglio borbonico sia eventualmente nella in parte dell'area 3 e quindi anche nella torre nella torre nel faro verde perfetto allora con questa risposta immediata di Federico che ringraziamo passiamo a questo punto la parola immediatamente per la conclusione di queste sessioni a responsabile insomma alle conclusioni dei saluti istituzionali di Francesco Floro Flores che può concludere che già vedo collegato quindi commissario di governo ben ritrovato allora grazie a tutti non c'è da dire che sono state tre giorni di grande interesse per quanto riguarda la partecipazione prima di tutto per la qualità delle domande che sono state poste e per la chiarezza con la quale i progettisti dello studio Pargone e di Invitalia hanno risposto a tutte le domande poste mi sembra che le conclusioni che possiamo dare sono delle conclusioni di grande utilità di questi tre giorni che sono stati fatti e ci auguriamo che appunto questo stato di partecipazione congiunta di un po' di tutti i stakeholders a queste attività continuino anche nei prossimi passi quindi niente grazie veramente per queste tre giorni interessantissime grazie per il contributo di tutti e sono convinto che su queste basi si potrà costruire qualcosa di ancora più interessante per il futuro grazie grazie mille grazie mille al commissario di governo Francesco Floro Flores per questa conclusione di questo ciclo di questo ciclo di appuntamente rilancio Bagnoli che ha visto appunto la partecipazione di tanti stakeholder e abbiamo appunto toccato tantissimi temi vorremmo toccarne tanti altri visto che il 30 ci conclude questo appello da parte di Invitali da parte appunto anche dei progettisti che hanno mostrato le loro idee e i loro progetti per poter ottenere altri contributi oltre alle domande che abbiamo raccolto in queste tre edizioni in queste tre sessioni e quindi chiediamo il vostro contributo fino al 30 giugno sempre sul sito che vi ricordo è bagnolicontest.invitalia.it nella sezione ascolto attivo dove potete inviare il vostro contributo qualora ci fossero ulteriori domande che magari possono essere non approfondite visto che i tre appuntamenti sono conclusi potete anche mandare una mail per ottenere appunto ulteriori riscontri chiaramente trovate i contatti sempre sul sul sito bagnolicontest.invitalia.it che lasciamo qui in chat detto ciò ringraziamo tutti gli ospiti tutti i relatori per la splendida interazione anche oggi e tutti coloro che hanno partecipato con vivo interesse per l'area bagnoli grazie a tutti a presto grazie a presto saluti grazie saluti a tutti grazie 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 a tutti